ventiquattro schiavi mori spingevano remando la famosa galera che doveva portare il principe amjad al palazzo del califo ma il principe avvolto nel suo mantello di porpora se ne stava solo straiato in coperta sotto l'azzurro cupo del cielo notturno disseminato di stelle e in suo sguardo la piccola aveva letto fin lì ad alta voce ora quasi all'improvviso e si chiusero gli occhi i genitori si guardarono sorridendo fridolin si chinò su di lei le baciò i capelli biondi e chiuse il libro che si trovava sulla tavola non ancora sparecchiata la bambina lo guardò come sorpresa sono le nove disse il padre è ora di andare a letto e poiché anche Albertin si era accostata alla bambina le mani dei genitori si incontrarono sulla fronte amata mentre i loro sguardi si scambiavano un tenero sorriso che non era rivolto più solo alla bambina entrò la governante e disse alla piccola di dare la buona notte ai genitori lei si alzò obbediente diede un bacio al padre e alla madre e si lasciò condurre docilmente dalla signorina fuori della stanza fridolin e Albertin ora finalmente soli sotto il chiarore rossastro della lampada ebbero a un tratto fretta di riprendere la conversazione cominciata prima di cena su quanto era accaduto durante il ballo in maschera il giorno precedente era stata quell'anno la loro prima festa da ballo e avevano deciso di parteciparvi quasi alla fine del carnevale quanto a fridolin appena entrato in sala era stato salutato come un amico atteso con impazienza da due maschere in domino rosso che non era riuscito a identificare sebbene esse conoscessero con sorprendente precisione ogni specie di storielle dell'epoca in cui era studente e praticante in ospedale si erano allontanate dal palco in cui lo avevano invitato con insinuante gentilezza assicurando che sarebbero tornate poco dopo e senza costume ma erano restate via così a lungo che fridolin impazientitosi aveva preferito scendere in platea sperando di incontrare di nuovo quelle due ambigue figure ma per quanto si sforzasse di guardarsi intorno non era riuscito a scorgerle da nessuna parte al posto loro qualcun altro si era attaccato di sorpresa al suo braccio la moglie appena liberatasi da uno sconosciuto dall'aria malinconica e blasé e dall'accento straniero palesemente polacco che l'aveva dapprima affascinata poi all'improvviso offesa e addirittura spaventata con una insolente parolaccia così marito e moglie contenti in fondo di essere sfuggiti a un banale e deludente scherzo di carnevale si erano trovati ben presto al buffet tra ostriche e champagne come due amanti fra altre coppie innamorate avevano conversato divertiti come se si fossero conosciuti solo allora gettandosi in una commedia della galanteria del diniego della seduzione e della condiscendenza e dopo una veloce corsa in carrozza attraverso la bianca notte invernale si erano abbandonati a casa l'uno nelle braccia dell'altra amandosi ardentemente come non accadeva più da tempo un'alba grigia li aveva svegliati troppo presto la professione imponeva al marito di essere già di buon'ora al capezzale dei suoi malati i doveri di madre e di donna di casa non fecero riposare più a lungo neppure Albertin le ore successive erano così trascorse nella monotonia dei loro consueti impegni e occupazioni mentre la notte passata l'inizio come la conclusione era impallidita nel ricordo solo ora compiuto il lavoro quotidiano poiché la bambina era andata a letto e non si aspettavano più di venire comunque disturbati riaffiorarono i fantasmi del ballo in maschera il melanconico sconosciuto e le figure in domino rosso e quegli avvenimenti irrilevanti furono ad un tratto magicamente e penosamente avvolti dall'ingannevole parvenza di occasioni perdute si scambiarono domande ingenue eppure insidiose e risposte maliziose e ambigue a nessuno dei due sfuggì che l'altro non era in fondo sincero e si sentirono così inclini a una moderata vendetta esagerarono nel valutare l'attrazione che gli sconosciuti partners del ballo in maschera avevano esercitato su di loro si beffarono negandoli dei moti di gelosia che lasciavano vicendevolmente trapelare tuttavia dalla leggera conversazione sulle futili avventure della notte scorsa finirono col passare a un discorso più serio su quei desideri nascosti appena presentiti che possono originare torbidi e pericolosi vortici anche nell'anima più limpida e pura e parlarono di quelle regioni segrete che ora li attraevano appena ma verso cui avrebbe potuto una volta o l'altra spingerli anche se solo in sogno l'inafferrabile vento del destino sebbene la loro unione si fondasse su una perfetta compenetrazione di sentimenti e di idee sapevano tuttavia che ieri li aveva sfiorati e non per la prima volta un'ombra di avventura di libertà e di pericolo trepidamente tormentandosi cercarono con sleale curiosità di capirsi confessioni e concentrandosi con angoscia sulla loro vita intima ognuno cercò in sé qualche fatto anche insignificante qualche avvenimento anche inconsistente che potesse esprimere l'ineffabile e la cui sincera confessione riuscisse a liberarli da una tensione e da una diffidenza che cominciavano a diventare a poco a poco insopportabili Albertin forse perché fra i due era la più impaziente la più sincera o la più indulgente trovò per prima il coraggio di fare una esplicita dichiarazione e con una voce un po' esitante domandò a Fridolin se si ricordava di quel giovane che la scorsa estate sulla costa danese era stato seduto una sera con due ufficiali al tavolo vicino a loro aveva ricevuto un telegramma durante la cena e si era quindi rapidamente congedato dai suoi amici Fridolin annuì ebbene? chiese l'avevo già visto la mattina rispose Albertin mentre saliva in fretta alle scale dell'hotel con la sua borsa gialla mi aveva osservata di sfuggita ma fatti alcuni gradini si fermò si girò verso di me e i nostri sguardi dovettero incontrarsi non sorrise mi sembrò anzi che il suo volto si rabbuiasse e lo stesso capitò a me perché ero agitata come non mai me ne stai ti tutto il giorno trassognata sulla spiaggia se mi avesse chiamata così pensavo non avrei potuto resistergli ritenevo di essere pronta a tutto mi credevo pressoché decisa a sacrificare te la bambina il mio avvenire e allo stesso tempo puoi capirlo mi eri più caro che mai proprio quel pomeriggio devi ancora ricordartene capitò che parlassimo di mille cose anche del nostro comune futuro e della bambina così intimamente come non accadeva più da tempo al tramonto eravamo seduti sul bancone quando lui passò camminava lungo la spiaggia senza sollevare lo sguardo e fui felice di vederlo tuttavia ti accarezzai la fronte e ti baciai i capelli e nel mio amore per te c'era allo stesso tempo tanta sofferta compassione la sera ero bellissima me lo dicesti anche tu e avevo una rosa bianca nella cintura forse non fu un caso che lo straniero sedesse coi suoi amici vicino a noi non mi guardò ma io mi bloccai con l'idea di alzarmi andare al suo tavolo e dirgli eccomi mio atteso amante prendimi in quel momento gli portarono il telegramma l'olessa impallidì sussurrò alcune parole al più giovane dei due ufficiali e sfiorandomi con uno sguardo enigmatico lasciò la sala e poi domandò asciutto Fridolin quando ella tacque nient'altro il mattino seguente mi svegliai con una certa apprezzione non so ne lo sapevo allora se temevo di più che fosse partito o che potesse essere ancora là tuttavia quando non ricomparve neanche a mezzogiorno tirai un sospiro di sollievo non farmi altre domande Fridolin ti ho detto tutta la verità e poi anche tu hai avuto qualche avventura su quella spiaggia lo so Fridolin si alzò si mise a camminare avanti e indietro per la stanza poi disse hai ragione stava presso la finestra il viso in ombra di mattina cominciò con voce velata un po' ostile a volte anche molto presto prima che ti alzassi ero solito camminare lungo la riva allontanandomi dal paese e sebbene fosse presto sul mare brillava già un sole chiaro e forte da quelle parti vicino alla spiaggia c'erano come sai delle villette isolate ognuna come un piccolo mondo a sé alcune col giardino recintato da uno steccato altre circondate anche solo dal bosco la strada e un pezzo di spiaggia separavano i capanni dalle case era difficile che incontrassi qualcuno così di buon'ora e bagnanti non se ne vedevano mai ma una mattina scorsi ad un tratto una figura femminile che fino allora mi era rimasta nascosta procedeva cautamente sullo stretto terrazzino di uno dei capanni piantati nella sabbia mettendo un piede avanti all'altro e con le braccia tese indietro lungo la parete di legno era una ragazza giovanissima forse quindicenne coi capelli biondi sciolti che le ricadevano sulle spalle e da una parte sul seno delicato la ragazza guardava l'acqua dinanzi a sé scivolando ad agio lungo la parete si spostava senza alzare lo sguardo verso l'altro angolo e tutto un tratto venne a trovarsi proprio di fronte a me tese ancora di più le braccia all'indietro come per aggrapparsi meglio alzò gli occhi e improvvisamente si accorse di me un tremitro la scosse quasi dovesse cadere o fuggire ma poiché su quella stretta striscia di legno non si sarebbe potuta muovere che lentamente decisi di fermarmi e restò così il viso dapprima impaurito poi arrabbiato infine impacciato a un tratto però sorrise sorrise meravigliosamente nei suoi occhi c'era un saluto un invito e allo stesso tempo una leggera derisione nel modo come sfiorò fuggevolmente con lo sguardo l'acqua e i suoi piedi che mi divideva da lei poi distese il corpo giovane e snello quasi lieta della sua bellezza e come si poteva facilmente notare fiera e deliziosamente eccitata per il luccichio del mio sguardo che sentiva fisso su di sé restammo così l'uno di fronte all'altra forse dieci secondi le labbra semiaperte e gli occhi scintillanti tesi istintivamente le braccia verso di lei nel suo sguardo si leggeva passione e gioia ma all'improvviso ella scosse violentemente la testa staccò un braccio dalla parete e mi fece imperiosamente cenno di allontanarmi e poiché non mi decisi a ubbidire subito i suoi occhi di bambina assunsero una tale espressione di preghiera di implorazione che non mi restò altro che andarmene proseguì il mio cammino più in fretta che potei non mi girai a guardarla neppure una volta non proprio per riguardo ubbidienza o cavalleria ma perché il suo ultimo sguardo aveva suscitato in me una tale commozione superiore a ogni altra esperienza che mi sentivo vicino a svenire tacque e quante volte chiese Albertin guardando dinanzi a sé senza alcuna enfasi hai fatto in seguito lo stesso cammino quel che ti ho raccontato rispose Fridolin accadde per caso l'ultimo giorno della nostra vacanza in Danimarca neanch'io so che cosa sarebbe avvenuto in circostanze diverse evita anche tu di fare altre domande Albertin Fridolin stava sempre presso la finestra immobile Albertin gli occhi umidi e misteriosi la fronte leggermente corrugata gli si avvicinò d'ora innanzi ci racconteremo sempre subito storie del genere disse e gli annui muto promettimilo Fridolin la tirò a sé non ne sei convinta chiese ma la sua voce continuava ad avere un tono duro Albertin gli prese le mani le carezzò e lo guardò con occhi velati nel cui fondo egli poteva leggere i suoi pensieri ora lei riandava con la mente ad altre più reali avventure di Fridolin alle sue avventure giovanili che conosceva in parte perché lui cedendo troppo docilmente alla sua gelosia gliene aveva parlato nei primi anni di matrimonio anzi come spesso gli sembrava le aveva abbandonate alla sua curiosità mentre avrebbe fatto meglio a tenerle per sé Fridolin sapeva che in quel momento sorgevano imperiosi in lei ricordi e si meravigliò appena quando le sentì pronunciare come in sogno il nome quasi dimenticato di una delle sue amanti di gioventù eppure quel nome gli suonò all'orecchio come un rimprovero anzi come una minaccia si portò alle labbra alle mani della moglie in ogni donna credimi anche se può sembrare una facile affermazione in ogni donna che credevo di amare ho sempre cercato te ma sono convinto più di quanto tu possa capire Albertin e la sorrise triste e se anch'io avessi avuto voglia di cercarti prima in altri uomini disse e il suo sguardo si trasformò e divenne freddo e impenetrabile Fridolin abbandonò le sue mani quasi l'avesse sorpresa mentre diceva una menzogna o lo tradiva ma lei continuò ah se sapeste e tacque di nuovo se sapessimo che vuoi dire pressa poco quel che pensi mio caro rispose Albertin con insolita durezza Albertin allora mi hai nascosto qualcosa lei annui e guardò dinanzi a sé con uno strano sorriso mentre in lui si destavano inconcepibili assurdi dubbi non riesco a capire disse Fridolin avevi appena 17 anni quando ci fidanzammo 16 passati Fridolin eppure lo guardò francamente negli occhi non dipesa da me se divenni tua moglie ancora vergine Albertin ed ella raccontò fu nel Wörthersee poco prima del nostro fidanzamento Fridolin una splendida sera d'estate un bellissimo giovane si fermò davanti alla mia finestra che guardava sull'ampia distesa del prato ci mettemmo a parlare e durante quella conversazione pensai ebbene senti un po' che cosa pensai che ragazzo simpatico e affascinante se dicesse ora una sola parola quella giusta naturalmente andrai con lui sul prato passeggerai con lui dovunque gli piaccia forse nel bosco ancora più bello sarebbe se andassimo insieme in barca sul lago stanotte potrebbe avere da me tutto quello che vuole sì questo pensai ma l'incantevole giovane non pronunciò quella parola mi baciò solo delicatamente la mano e il mattino successivo mi chiese se volevo diventare sua moglie e io dissi di sì Fridolin lasciò andare seccato la mano della moglie poi disse e se quella sera ci fosse stato per caso un altro davanti alla tua finestra e gli fosse venuta in mente la parola giusta per esempio pensò quale nome dovesse dire quando lei allargò le braccia come per dissuaderlo un altro chiunque altro avrebbe potuto dire ciò che voleva non gli avrebbe valso a nulla e se non fossi stato tu il giovane davanti alla finestra gli sorrise allora anche la sera d'estate non sarebbe stata certo così bella e gli storse beffardamente la bocca lo dici adesso e forse in questo momento ne sei anche convinta ma bussavano alla porta entrò la cameriera e disse che la portiera della Schreifogelstrasse era venuta a pregare il dottore di recarsi dal consigliere che stava di nuovo molto male Fridolin andò nell'anticamera e la donna gli informò che il consigliere aveva avuto un attacco di cuore e si sentiva malissimo promise che sarebbe andato immediatamente mentre si preparava in fretta Albertin gli chiese esci in tono adirato come se il marito uscendo volesse farle un dispetto Fridolin rispose quasi stupito non posso certo farne a meno Albertin sospirò leggermente speriamo che non sia così grave disse Fridolin finora 300 grammi di morfina lo hanno sempre aiutato a superare l'attacco la cameriera aveva portato la pelliccia Fridolin baciò piuttosto distrettamente Albertin sulla fronte e sulla bocca come se il colloquio delle ore precedenti si fosse già cancellato dalla sua memoria e si allontanò in fretta in strada dovete aprire la pellizza era cominciato improvvisamente il disgelo la neve sul marsapiede si era quasi sciolta espirava un venticello che annunciava la primavera dall'abitazione di Fridolin nella Josefstadt vicino all'ospedale alla Scheirer Vogelgasse c'era meno di un quarto d'ora e così ben presto Fridolin salì la scala tortuosa e male illuminata della vecchia casa giunse al secondo piano e tirò il cordone del campanello ma ancora prima che quel suono antiquato si facesse sentire notò che la porta era solo accostata attraverso l'anticamera oscura entrò nel soggiorno e vide subito che era giunto troppo tardi la lampada a petrolio col paralume verde che pendeva dal soffitto basso illuminava debolmente la coperta sotto la quale era disteso immobile un corpo magro il volto del morto era in ombra ma Fridolin lo conosceva così bene che credette di vederlo con piena chiarezza magro rugoso la fronte alta la barba bianca corta le orecchie singolarmente brutte ricoperte di peli bianchi Marianne la figlia del consigliere sedeva ai piedi del letto le braccia ciondolanti come disfatta per la stanchezza c'era odore di vecchi mobili medicina petrolio cucina ma un po' anche di acqua di colonia e sapone alla rosa e Fridolin sentiva anche in qualche modo il profumo insipido dolciastro di quella ragazza pallida ancora giovane che da mesi da anni sfioriva lentamente impegnata in duri lavori casalinghi veglie notturne e faticosa assistenza al malato all'ingresso del medico aveva sollevato lo sguardo su di lui ma poiché c'era poca luce non poteva vedere bene se fosse arrossita come le altre volte al suo apparire Marianne voleva alzarsi Fridolin glielo impedì con un gesto della mano lei gli fece un cenno di saluto con gli occhi grandi ma tristi Fridolin si accostò al letto sfiorò meccanicamente la fronte del morto e le braccia che giacevano sulla coperta le maniche della camicia ampie e sbottonate poi si strinse nelle spalle un po' dispiaciuto affondò le mani nelle tasche del cappotto di pelliccia vagò con lo sguardo qua e là nella stanza e infine lo posò su Marianne i suoi capelli erano folti e biondi ma aridi il bel collo snello non del tutto privo di rughe e di un colore giallognolo le labbra sottili come per le molte parole non dette ebbene murmurò quasi impacciato mia cara signorina l'evento non la coglie certo impreparata lei gli dè della mano lui gliela strinse partecipe si informò doverosamente del decorso dell'ultimo attacco che aveva provocato la morte Marianne riferì con frasi brevi e obiettive e parlò poi degli ultimi giorni relativamente tranquilli in cui Fridolin aveva visto il malato Fridolin aveva accostato una sedia si sedette di fronte a Marianne e per confortarla le fece considerare che nelle ultime ore suo padre non poteva aver sofferto molto poi si informò se erano stati avvertiti i parenti sì la portiera era già andata dallo zio e in ogni caso presto sarebbe venuto il dottor Rediger il mio fidanzato aggiunse evitando di guardare Fridolin negli occhi Fridolin annui soltanto nel corso di un anno aveva incontrato il dottor Rediger due o tre volte lì in casa quel giovane pallido ed inoccolato con la barba bionda corta e occhiali docente di storia all'università di Vienna gli era piaciuto abbastanza senza stimolare oltre il suo interesse Marianne avrebbe certo un aspetto migliore pensò se fosse la sua amante i suoi capelli sarebbero meno aridi le sue labbra più rosse e piene quanti anni potrà avere si domandò ancora quando fui chiamato la prima volta per visitare i consigliere tre o quattro anni fa aveva ventitré anni allora era ancora viva la mamma era più serena allora non aveva preso per qualche tempo lezioni di canto dunque sposerà questo docente perché lo fa innamorata non lo è di certo né lui dovrebbe essere molto ricco che matrimonio sarà mai ma un matrimonio come tanti altri che mi importa probabilmente non la rivedrò mai più ora che non ho più nulla da fare in questa casa ahimè quante persone non ho più rivisto che mi erano più care di lei mentre quei pensieri gli attraversavano la mente Marianne aveva cominciato a parlare del defunto con una certa insistenza come se la semplice circostanza della morte lo avesse fatto diventare a un tratto una persona importante dunque aveva davvero solo 54 anni certo con tante preoccupazioni e delusioni la moglie sempre sofferente il figlio gli aveva dato tanti dispiaceri come? aveva un fratello? sicuro ma glielo aveva già detto una volta il fratello viveva ora da qualche parte all'estero nella cameretta di Marianne c'era un quadro che gli aveva dipinto a 15 anni rappresentava un ufficiale che galoppava giù per la collina il padre aveva fatto sempre finta di non accorgersi del quadro ma era un buon quadro in condizioni più favorevoli il fratello avrebbe potuto fare sicuramente dei progressi come parla eccitata pensò Fridolin e come le luccicano gli occhi febbre può darsi è dimagrita negli ultimi tempi apicite probabilmente continuava a parlare ma gli sembrò che non sapesse bene con chi oppure che parlasse con se stessa il fratello mancava da casa da 12 anni sì era ancora una bambina quando era improvvisamente scomparso 4-5 anni prima a Natale erano giunte l'ultima volta sue notizie da una cittadina italiana strano ne aveva dimenticato il nome continuò così ancora per un certo tempo a parlare di cose insignificanti senza che fosse necessario quasi senza nesso finché all'improvviso tacque ora sedeva lì muta il capo fra le mani Fridolin era stanco e ancor più annoiato aspettava ansiosamente che venisse qualcuno i parenti o il fidanzato il silenzio gravava pesantemente nella stanza aveva l'impressione che il morto tacesse con loro non perché era ormai impossibile che parlasse ma di proposito e con gioia maligna Fridolin gli giottò un'occhiata di lato poi disse ad ogni modo come stanno ora le cose signorina marian è un bene che lei non debba restare più a lungo in questa casa e poiché la sollevò un po' la testa senza però guardare Fridolin il suo fidanzato otterrà presto una cattedra alla facoltà di lettere ci sono maggiori possibilità che da noi in questo senso si ricordò che qualche anno prima aveva anche lui aspirato alla carriera universitaria ma aveva finito per scegliere la libera professione per la sua tendenza a una vita più comoda e ad un tratto gli sembrò di essere meno importante dell'eccellente dottor Rediger quest'autunno ci trasferiamo disse marian senza scomporsi è stato chiamato all'università di Gottinga ah disse Fridolin e voleva congratularsi in qualche modo ma gli sembrò fuori luogo in quel momento e in quella circostanza gettò un'occhiata alla finestra chiusa e senza chiederne il permesso come esercitando un suo diritto di medico la spalancò e fece entrare l'aria che nel frattempo si era fatta ancora più tiepida primaverile e sembrava portare con sé un lieve profumo dai boschi lontani che si risvegliavano dal sonno invernale quando si girò vede gli occhi di marian fissi interrogativamente su di lui e si fece più vicino e osservò spero che l'aria fresca le faccia bene fa addirittura caldo e ieri notte stava quasi per dire siamo tornati a casa dal ballo in maschera in una tempesta di neve ma modificò subito la frase e aggiunse ieri sera c'era ancora mezzo metro di neve per le strade lei ascoltò appena le sue parole gli occhi le si inumidirono grosse lacrime le rigarono le guance e nascuse di nuovo il viso tra le mani istintivamente Fridolin le posò la mano sul capo e le accarezzò la fronte sentì che il suo corpo cominciava a tremare poi lei prese a singhiozzare da prima quasi in silenzio poi più forte infine senza più controllarsi improvvisamente era scivolata dalla sedia e giaceva ai piedi di Fridolin abbracciò le sue ginocchia e vi premette contro il viso poi lo guardò con occhi spalancati furiosi per il dolore e sussurrò ardentemente non voglio andar via di qui anche se lei non ritornerà mai se non la vedrò mai più voglio vivere vicino a lei Fridolin era più commosso che sorpreso poiché aveva sempre saputo che era innamorata di lui o credeva di esserlo si alzi Marianne disse piano si chinò su di lei l'aiutò ad alzarsi con delicatezza e pensò naturalmente si tratta anche di un po' di isteria gettò una rapida occhiata al padre morto chissà che non senta tutto pensò che sia una morte apparente forse capita a tutti di essere morti solo apparentemente nelle prime ore dopo il decesso teneva Marianne fra le braccia ma allo stesso tempo leggermente discosta da sé la baciò quasi senza volerlo sulla fronte e quel gesto gli sembrò un po' ridicolo si ricordò fuggivolmente di un romanzo che aveva letto molti anni prima e in cui un giovanotto quasi un ragazzo veniva sedotto o meglio violentato presso il letto di morte della madre da un'amica di lei nello stesso istante senza sapere perché fu costretto a pensare a sua moglie sentì affiorare un senso di amarezza nei confronti di Albertin e un sordo rancore contro il signore con la borsa da viaggio gialla sulla scala dell'albergo in Danimarca attirò più fortemente a sé Marianne ma non provò la minima eccitazione anzi la vista dei capelli opachi e aridi e l'odore dolciastro e stantio del suo abito gli diedero una leggera ripugnanza in quel momento suonò il campanello si sentì come liberato baciò in fretta la mano di Marianne quasi per riconoscenza e andò ad aprire sulla soglia apparve il dottor Rüdiger cappotto grigio scuro sopra scarpe e ombrello in mano l'espressione del viso grave e adatta alla circostanza i due uomini si scambiarono un cenno di saluto più confidenziale di quanto lo richiedessero i loro reali rapporti entrarono poi nella stanza Rüdiger fece le condoglianze a Marianne dopo aver gettato uno sguardo imbarazzato al morto Fridolin andò nella camera accanto per redigere il certificato di morte alzò la fiamma della lampada a gas sulla scrivania e il suo sguardo cadde sull'immagine dell'ufficiale in uniforme bianca che brandendo la sciabola galoppava giù per la collina contro un nemico invisibile il quadro era racchiuso in una sottile cornice di oro brunito e non faceva un effetto molto migliore di una modesta oleografia Fridolin ritornò col certificato di morte nella stanza dove i fidanzati la mano nella mano sedevano presso il letto del padre suonò di nuovo il campanello il dottor Rediger si alzò e andò ad aprire nel frattempo lo sguardo fisso a terra con un filo di voce Marianne disse ti amo Fridolin replicò pronunciando non senza tenerezza il nome di Marianne Rediger ritornò con una coppia di coniugi anziani erano lo zio e la zia di Marianne si scambiarono alcune parole di circostanza con l'impaccio che la presenza di un uomo morto da poco suole diffondere intorno la piccola camera sembrò improvvisamente come affollata di gente Fridolin ebbe l'impressione di essere di troppo si congedò e venne accompagnato da Rediger che ritenne di dover dire alcune parole di ringraziamento ed espresse la sua speranza di incontrarlo presto di nuovo davanti al portone Fridolin alzò gli occhi verso la finestra che aveva aperto poco prima le imposte oscillavano lievemente al vento quasi primaverile coloro che erano rimasti di sopra i vivi come il morto gli sembravano ora spettralmente irreali aveva l'impressione di essere sfuggito non tanto a un'avventura quanto piuttosto a un malinconico incantesimo che non era riuscito a soggiogarlo l'unica conseguenza era una strana avversione a ritornare a casa la neve per le strade si era sciolta a destra e a sinistra si vedevano piccoli mucchietti di un bianco sporco i fiammelli a gas dei lampioni oscillavano da una chiesa vicina rintoccarono le undici Fridolin decise di trattenersi ancora un po' nel tranquillo angolo di un caffè vicino a casa sua prima di andare a dormire e si incamminò attraverso il parco del municipio sulle panchine in ombra sedevano qua e là coppie abbracciate come se fosse già veramente primavera e l'ingannevole aria calda non fosse pregna di pericoli su una panchina stava disteso un uomo piuttosto cencioso il cappello tirato sugli occhi se lo svegliassi pensò Fridolin e gli dessi i soldi per procurarsi da dormire stanotte ah a che servirebbe riflette ancora allora dovrei provvedervi anche domani altrimenti non avrebbe alcun senso e alla fine si potrebbe pensare che io abbia con lui dei rapporti equivoci accelerò il passo come per sfuggire il più presto possibile a ogni specie di responsabilità e tentazione perché proprio quello si domandò nella sola Vienna vivono migliaia di poveri diavoli come lui se ci si volesse prendere cura di tutti del destino di tutti gli sconosciuti e gli venne in mente il morto che aveva appena lasciato pensò con un certo raccapriccio e non senza disgusto che in quel corpo magro allungato sotto la bruna coperta di flanella la decomposizione ubedendo leggi eterne aveva iniziato la sua opera si rallegrò di essere ancora vivo e con ogni probabilità ancora lontano da tutte quelle cose spiacevoli era ancora nel pieno della giovinezza marito di una donna amabile e attraente si sapeva capace di procurarsi anche altre donne solo che ne avesse avuto voglia certo per uno svago del genere gli sarebbe voluto più tempo libero di quanto gli era concesso si ricordò che l'indomani mattina alle 8 doveva trovarsi nel suo reparto dalle 11 a luna andare a visitare pazienti privati il pomeriggio dalle 3 alle 5 ricevere nel suo studio e che anche nelle ore serali lo attendevano alcune visite a domicilio comunque sperava che almeno non lo venissero a chiamare di nuovo a sera tarda come era accaduto oggi attraversò la piazza del municipio che luccicava opaca come uno stagno brunastro e si avviò verso il familiare quartiere di Josefstadt utì da lontano dei passi pesanti regolari e vide ancora a una certa distanza proprio mentre voltavano l'angolo di una strada un gruppetto di 6 o 8 studenti che procedevano nella sua direzione quando i giovani capitarono sotto la luce di un lampione credette di riconoscere i berretti blu della corporazione studentesca degli alemanni non aveva fatto mai parte di un'associazione di gogliardi ma a suo tempo si era qualche volta misurato in duello con loro il ricordo degli anni di università gli richiamò alla mente le due maschere in domino rosso che la notte scorsa l'avevano attirato nel palco e subito dopo insolentemente abbandonato gli studenti si erano avvicinati parlavano ad alta voce e ridevano poteva darsi che ne avesse già conosciuto qualcuno in ospedale ma con quella luce incerta non era possibile scorza nei volti dovette tenersi molto accosto al muro per evitare di scontrarsi con loro adesso erano passati solo l'ultimo uno spilungone col cappotto aperto e una benda sull'occhio sinistro sembrò attardarsi addirittura di proposito e gli diede una gomitata non poteva essere un caso che gli salta in mente pensò Fridolin e istintivamente si fermò l'altro fece lo stesso dopo due passi si guardarono così per un momento negli occhi piuttosto da vicino ma improvvisamente Fridolin si voltò e proseguì per la sua strada udì una breve risata alle sue spalle si sarebbe quasi girato di nuovo per affrontare il giovanotto ma sentì uno strano batticuore proprio come una volta dodici o quattordici anni prima quando qualcuno aveva bussato violentamente alla porta mentre si trovava da lui quella graziosa fanciulla che amava sempre chiacchierare di un fidanzato che viveva lontano e probabilmente non esisteva affatto in realtà non era stato che il postino a bussare a quel modo e adesso sentiva il cuore battere proprio come allora che succede si domandò adirato e notò che gli tremavano un po' le ginocchia viltà sciocchezze si disse dovrai forse litigare con uno studente ubriaco io un uomo di 35 anni medico sposato padre di una bambina sfida padrini duello e infine una bella ferita al braccio per una così stupida provocazione inabile al lavoro per qualche settimana oppure la perdita di un occhio o addirittura setticemia e fra otto giorni disteso sotto la coperta di flanella bruna come il signore della Schley Vogelgasse si era battuto tre volte con la sciabola e una volta aveva anche accettato un duello alla pistola poi la questione era stata composta pacificamente non certo per sua iniziativa e la sua professione pericoli da ogni parte in ogni momento solo che uno non ci faceva più caso quanto tempo era trascorso da quando il bambino con la difterite gli aveva tossito in faccia tre o quattro giorni non di più quella era comunque una faccenda più preoccupante di un duello alla sciabola tuttavia non ci aveva più pensato e poi se avesse incontrato di nuovo quel tipo avrebbe pur sempre potuto chiarire la questione non era affatto obbligato a mezzanotte mentre tornava da un malato o si recava da un malato in fondo era possibile anche quello no non era veramente obbligato a reagire a una sciocca provocazione goliardica se adesso per esempio gli fosse venuto incontro il giovane danese con cui Albertin ma no che gli saltava mai in mente ebbene in fondo era come se fosse stata la sua amante o peggio ancora sì che gli venisse incontro lui in quel momento sarebbe un vero piacere potergli stare di fronte in una radura e puntare contro quella testa dai capelli biondi e lisciati la canna di una pistola a un tratto superato ormai la sua meta si trovò in una stradina in cui si aggiravano solo alcune squallide prostitute a caccia notturna di uomini che atmosfera spettrale pensò anche gli studenti dai berretti blu divennero improvvisamente spettrali nel ricordo così pure Marianne il fidanzato lo zio e la zia che ora immaginò tenersi per mano attorno al letto di morte del vecchio consigliere anche Albertin che gli appareva immersa in un sonno profondo le mani incrociate dietro la nuca persino la bambina che a quell'ora dormiva raggomitolata nel lettino bianco e la governante dalle guance rubiconde con la voglia sulla tempia sinistra tutti si erano trasformati ai suoi occhi in figure assolutamente spettrali e sebbene quella sensazione lo facesse un po' inorridire gli trasmetteva però allo stesso tempo una certa calma che sembrava liberarlo da ogni responsabilità e addirittura svincolarlo da ogni rapporto umano una delle passeggiatrici lo invitò ad andare con lei era una creatura graziosa ancora molto giovane pallidissima e labbra tinte di rossetto anche un'avventura simile potrebbe concludersi con la morte pensò solo che la fine non sarebbe tanto rapida di nuovo la viltà in fondo sì sentì alle sue spalle i passi della donna e poi la sua voce allora andiamo dottore si voltò involontariamente come fai a conoscermi chiese non la conosco disse ma in questi quartieri sono tutti dottori non aveva avuto a che fare con una donna del genere dagli anni del liceo l'eccitazione che quella creatura gli procurava aveva forse il senso di un improvviso ritorno all'adolescenza si ricordò di un conoscente occasionale un giovane elegante che si diceva avesse un'enorme fortuna con le donne col quale da studente aveva trascorso qualche ora in un locale notturno al termine di una festa da ballo questi prima di allontanarsi con una delle entrenez al suo sguardo alquanto meravigliato aveva replicato con le parole in fondo è sempre la cosa più comoda e non sono neanche peggiori di tante altre come ti chiami chiese Fridolin beh come vuoi che ci chiamiamo noi Mizi naturalmente aveva già girato la chiave nel portone di casa era entrata e aspettava che Fridolin la seguisse svelto disse poiché egli agitava a un tratto Fridolin si trovò vicino a lei il portone si serrò alle sue spalle la ragazza chiusa a chiave accese una piccola candela e gli fece luce sono pazzo si chiese naturalmente non la toccherò nella stanza ardeva una lampada ad olio la donna alzò il lucignolo era un ambiente molto accogliente ben tenuto e comunque si sentiva un odore più gradevole che in casa di Marianne per esempio certo lì dentro non era stato a letto un vecchio ammalato la ragazza sorrise si avvicinò con discrezione a Fridolin che l'allontanò dolcemente poi gli indicò una sedia ad ondolo in cui egli si abbandonò con piacere devi essere molto stanco disse e gli annui e mentre si spogliava senza fretta la ragazza aggiunse si capisce un uomo come te chissà quanto avrà da fare tutto il giorno per una di noi la vita è certo più facile Fridolin si accorse che le sue labbra non erano per nulla truccate ma colorite di un rosso naturale e le fece un complimento perché dovrei truccarmi domandò quanti anni credi che abbia venti tirò a indovinare Fridolin diciassette rispose si sedette sulle sue ginocchia e gli cinse la nuca con il braccio come una bambina chi mai al mondo potrebbe supporre che mi trova in questa stanza e gli pensò io stesso l'avrei forse ritenuto possibile un'ora dieci minuti fa e perché perché lei cercò di baciarlo sulle labbra lui si tirò indietro la donna lo guardò meravigliata un po' triste e si lasciò scivolare dalle sue ginocchia la Fridolin quasi dispiacque perché quell'abbraccio esprimeva tanta consolante tenerezza la ragazza prese una vestaglia rossa che era appoggiata sulla spalliera del letto se l'infilò e incrociò le braccia sul petto nascondendo così del tutto il suo corpo va bene ora chiese senza scherno quasi timida come se cercasse di capirlo Fridolin non sapeva bene cosa rispondere hai proprio indovinato disse infine sono davvero stanco e trovo molto piacevole starmene sdraiato sulla poltrona ad ondolo semplicemente ad ascoltarti hai una voce così gradevole e dolce parla raccontami qualcosa la ragazza era seduta sul letto e scrollò il capo hai solo paura disse piano e poi tra sé quasi sottovoce peccato quest'ultima parola suscitò in Fridolin un'improvvisa eccitazione si avvicinò a lei volle abbracciarla disse che gli ispirava piena fiducia e forse era anche vero la tirò a sé e la corteggiò come si fa con una donna con una ragazza amata ma lei si oppose Fridolin si vergognò ed infine desistette lei disse non si può mai sapere una volta o l'altra toccherà anche a me fai molto bene ad aver paura e se capitasse qualcosa mi malediresti rifiutò con grande decisione le banconote che le offrì ed egli non pote insistere oltre la ragazza si gettò sulle spalle uno scialletto di lana blu accese una candela gli fece luce accompagnandolo giù e aprì il portone ormai oggi resterò a casa disse Fridolin le prese la mano e istintivamente gliela baciò lei lo guardò sorpresa quasi spaventata poi risa imbarazzata e felice come una signorina per bene disse il portone si chiuse alle sue spalle e Fridolin con una rapida occhiata si fissò in mente il numero della casa per poter inviare l'indomani vino e le cornie a quella povera cara ragazza l'aria si era fatta ancora più calda il vento tiepido portava nella stradina un profumo di prati umidi e di monti lontani in primavera il vento tiepido portava nella stradina un profumo di prati umidi e di monti lontani in primavera dove vado ora? pensò Fridolin come se non fosse naturale tornare finalmente a casa e andare a letto non poté decidersi a farlo dopo quello spiacevole incontro con gli studenti gli sembrava di essere un reietto uno sbandato o forse dopo la confessione di Marianne no la prima ancora dopo la conversazione serale con Albertin si stava allontanando sempre più dalla normale sfera della sua esistenza addentrandosi in un altro mondo lontano ed estraneo vagò per le strade nella notte si fece carezzare la fronte da un leggero fun e infine con passo deciso come se fosse giunto a una meta a lungo cercata entrò in un caffè qualunque accogliente di vecchio stile non molto grande scarsamente illuminato e a quell'ora tarda quasi vuoto in un angolo tre signori giocavano a carte un cameriere che fino allora aveva seguito il gioco aiutò Fridolin a togliersi la pelliccia prese l'ordinazione e gli mise sul tavolo riviste illustrate e giornali della sera Fridolin si sentì come al sicuro e cominciò a sfogliare rapidamente i giornali il suo sguardo si fermava qua e là sulle notizie di cronaca in una città della Bohemia erano stati divelti dei cartelli stradali in lingua tedesca a Costantinopoli era in corso una conferenza per la costruzione di una ferrovia in Asia minore alla quale partecipava anche Lord Cranford la ditta Benyè Evan Gruber aveva dichiarato fallimento la prostituta Anna Tiger aveva tentato per gelosia di sfregiare col vetriolo l'amica Hermine Drabitsky quella sera aveva a luogo alla Sofie in Seelen una cena a base di pesce una giovane Marie B abitante a Schönbrunner Hauptstrasse 28 si era avvelenata col sublimato tutti quei fatti insignificanti o tristi esercitavano con la loro asciutta banalità un effetto in qualche modo disincantante e tranquillizzante su Fridolin provò una certa compassione per la giovane Marie B sublimato che stupidaggine in quel medesimo istante mentre lui sta seduto comodamente al caffè Albertin dorme tranquilla con le mani incrociate dietro la nuca e il consigliere ha ormai superato ogni sofferenza terrena Marie B Schönbrunner Hauptstrasse 28 si torcia in dolori insensati sollevò lo sguardo dal giornale da un tavolo di fronte due occhi erano fissi su di lui possibile? Nachtigall? questi l'aveva già riconosciuto alzò le braccia lietamente sorpreso e gli si avvicinò era un uomo ancora giovane alto e abbastanza robusto quasi tozzo coi capelli lunghi leggermente ondulati e già un po' brizzolati i baffi bianchi rivolti all'insù alla maniera polacca portava un cappotto grigio aperto e sotto un frac alquanto unto una camicia sgualcita con tre bottoni di brillanti falsi un colletto spiegazzato e una cravatta svolazzante di seta bianca aveva le palpebre arrossate come per molte notte insonni ma gli occhi brillavano chiari e azzurri nachtigal sei a vienna esclamò fridolin non lo sai disse nachtigal con morbido accento polacco e una leggera cadenza ebrea com'è possibile che tu non lo sappia eppure sono così famoso risse forte e buonariamente e si sedette di fronte a fridolin come? chiese fridolin magari sei diventato in segreto professore di chirurgia nachtigal scoppiò in una risata più fragorosa non mi hai sentito poco fa come sentito? ah ora capisco e solo allora fridolin si rese conto che entrando nel locale ma anche prima mentre si avvicinava al caffè aveva sentito venire su da uno scantinato il suono di un pianoforte allora eri tu il pianista esclamò e chi altri se no? rispose ridendo nachtigal fridolin annui naturalmente quel tocco energico e singolare con gli strani accordi della mano sinistra un po' troppo liberi ma ben armonizzati gli erano sembrati subito così familiari allora ti sei dedicato a tutto alla musica disse si ricordò che nachtigal aveva abbandonato definitivamente lo studio della medicina già dopo il secondo preesame di zoologia che pure aveva superato anche se con sette anni di ritardo ma aveva continuato ad aggirarsi ancora a lungo per l'ospedale la sala anatomica i laboratori e le aule dando vita con la sua bionda testa d'artista il colletto sempre spiegazzato la cravatta svoluzzante che una volta doveva essere stata bianca a un pomeriggio stravagante popolare e ben voluto non solo dai colleghi ma perfino da alcuni professori figlio di un ebreo proprietario di una mescita di acquavite in un paesino polacco era venuto a Vienna per studiare medicina le esigue sovvenzioni dei genitori sin dall'inizio quasi irrilevanti erano per giunta presto cessate del tutto ma ciò non gli aveva impedito di continuare a frequentare un gruppo di studenti di medicina che si riunivano abitualmente a Riedhoff e del quale faceva parte anche Fridolin a un certo momento in poi il suo conto era stato sempre pagato a turno da uno dei colleghi benestanti talvolta gli regalavano anche dei vestiti che accettava altrettanto volentieri senza falsa superbia già nel suo villaggio natale Nachtigall aveva cominciato a studiare il pianoforte con un concertista fallito e a Vienna da studiosus medicina frequentava contemporaneamente il conservatorio dove pare lo si considerasse dotato di un promettente talento ma anche in quel campo non mostrava la serietà e la diligenza necessarie per portare regolarmente a termine gli studi ben presto si accontentò solo dei successi musicali ottenuti nella cerchia dei suoi conoscenti anzi del piacere che procurava loro con le sue esecuzioni al pianoforte per un certo periodo aveva fatto il pianista in una scuola di ballo della periferia colleghi di università e amici conviviali avevano cercato di introdurlo in case signorili ma in quelle occasioni suonava sempre solo ciò che sul momento gli andava a genio e fin quando ne aveva voglia si abbandonava con le giovani signore a conversazioni non sempre innocenti e beveva più di quanto potesse tollerare una volta suonò una festa da ballo in casa di un direttore di banca ancora prima di mezzanotte dopo aver messo in imbarazzo con osservazioni galanti ed allusive le ragazze che gli passavano davanti e provocato il risentimento dei loro cavalieri attaccò all'improvviso un furioso cancan e su quella musica cantò con la sua poderosa voce di basso una strofetta a doppio senso il direttore di banca lo rimproverò duramente nachtigal come preso da una subitanea euforia si alzò e abbracciò il direttore questi si indignò e sebbene anche gli ebrei lanciò al pianista una tipica ingiulia che nachtigal ricambiò immediatamente con un potente ceffone sembra così definitivamente conclusa la sua carriera presso le famiglie per bene della città in circoli più ristretti in genere si comportava meglio sebbene anche in quelle occasioni a tarda ora fossero costretti ad allontanarlo con la forza dal locale ma la mattina successiva quegli incidenti venivano scusati e dimenticati da tutti un giorno i suoi colleghi avevano terminato da un pezzo i loro studi sparì dalla città senza salutare nessuno per alcuni mesi continuarono ad arrivare cartoline di saluto da diverse città polacche e russe e una volta Fridolin per il quale nachtigal aveva sempre avuto una particolare simpatia fu improvvisamente costretto a ricordarsi di lui per avere ricevuto non solo dei saluti ma anche una richiesta di una modesta somma Fridolin inviò subito il denaro senza mai più ricevere un ringraziamento o un qualunque segno di vita di nachtigal ma in quel momento alle due meno un quarto di notte dopo otto anni nachtigal volle rimediare subito a quella dimenticanza e ricordandosi esattamente la montare della somma tirò fuori le banconote da un portafoglio alquanto logoro ma peraltro discretamente fornito sicché Fridolin poteva accettare senza nessuno scrupolo la restituzione del denaro allora che la passi bene disse sorridendo come per tranquillizzarsi non posso lamentarmi rispose nachtigal e posando la mano sul braccio di Fridolin ma ora dimmi com'è che vieni qui in piena notte Fridolin giustificò la sua presenza nel locale a un'ora così tarda col bisogno impellente di bere ancora un caffè dopo una visita notturna a un malato nascose però senza saper bene perché che non aveva più trovato in vita il suo paziente poi parlò in generale della sua attività di medico presso il policlinico e del suo studio privato raccontò di essere sposato felicemente sposato e padre di una bambina di sei anni nachtigal raccontò a sua volta come Fridolin aveva giustamente supposto in tutti quegli anni si era guadagnato da vivere suonando il piano in ogni specie di cittadine polacche rumene serbe e bulgare a Lemberg aveva una donna dalla quale aveva avuto quattro bambini scoppiò a ridere come se fosse assai buffo avere quattro bambini tutti a Lemberg e tutti dalla stessa donna dall'autunno scorso abitava di nuovo a Vienna il teatro di varietà che l'aveva ingaggiato era subito fallito e ora suonava come capitava nei locali più diversi talvolta anche in due o tre nella stessa notte come ad esempio nello scantinato di quel caffè niente di molto signorile osservò in realtà una specie di locale per il gioco dei birilli quanto al pubblico poi ma quando si deve provvedere al sostentamento di quattro bambini e di una donna a Lemberg e rise di nuovo non più così allegramente come poco prima talvolta lavoro anche per privati aggiunse subito e poiché colse sul volto di Fridolin un sorriso che alludeva a un ricordo non per direttori di banca o roba del genere no in tutti gli ambienti possibili anche importanti pubblici e segreti segreti Nachtigall assunse un'espressione scaltramente seria fra poco mi verranno a prendere di nuovo come oggi suone ancora certo lì si comincia solo alle due abitudine particolarmente raffinata disse Fridolin sì e no rispose ridendo Nachtigall ma si fece subito di nuovo serio sì e no ripete Fridolin incuriosito Nachtigall gli si avvicinò oggi suono in una casa privata ma non so chi è il proprietario allora oggi è la prima volta chiese Fridolin con crescente interesse no la terza ma probabilmente sarà di nuovo in una casa diversa non capisco neppure io risa Nachtigall è meglio che tu non faccia domande fece Fridolin oh ti sbagli non si tratta di quel che pensi ne ho già viste di tutti i colori non lo si crederebbe in certe cittadine specialmente in Romania si fanno molte esperienze ma qui scostò un po' con la tendina gialla dalla finestra guardò in strada e disse come tra sé non è ancora arrivata poi precisò a Fridolin intendo la carrozza mi viene sempre a prendere una carrozza e sempre una diversa mi incuriosisci Nachtigall disse freddamente Fridolin senti disse Nachtigall dopo qualche esitazione se c'è uno a cui lo permetterei ma come si fa e improvvisamente hai coraggio strana domanda rispose Fridolin in tono puerilmente offeso dico così per dire ma allora che intendi dire veramente perché in questa occasione c'è bisogno di un particolare coraggio cosa può mai accadere disse Fridolin con una risatina sprezzante a me non può accadere nulla tutt'al più oggi sarà l'ultima volta che suono per quella gente ma forse andrà comunque così tacque e guardò di nuovo fuori scostando la tendina beh allora dicevi domandò Nachtigall come trassognato continua il tuo racconto dal momento che hai cominciato riunione segreta circolo esclusivo invito obbligatorio non so recentemente c'erano trenta persone la prima volta solo sedici una festa da ballo naturalmente una festa da ballo ora Nachtigall sembrò pentirsi di aver parlato e tu suoni per l'occasione per quale occasione non so di che si tratti davvero non lo so io suono suono con gli occhi bendati Nachtigall Nachtigall che storie mi racconti mai Nachtigall sospirò bendati ma purtroppo non del tutto non così che non posso vedere proprio nulla infatti guardo nello specchio attraverso il fazzoletto di seta nera che mi ricopre gli occhi da qui di nuovo in breve disse Fridolin impaziente e con disprezzo si sentiva però stranamente eccitato donnine nude non dire donnine Fridolin rispose Nachtigall come offeso femmine simili non ne hai mai viste Fridolin si schiarì leggermente la voce e quanto costa l'entrata domandò di sfuggita vuoi dire il biglietto d'ingresso o roba del genere che ti salta in mente allora come si fa ad entrare chiese Fridolin a bassa voce tamburellando con le dita sul tavolino devi conoscere la parola d'ordine e ogni volta ce n'è una diversa e quella di oggi non la conosco ancora me la dice il cocchiere fammi venire con te Nachtigall impossibile troppo pericoloso ma se un minuto fa avevi l'intenzione di permettermi dovrà pur essere possibile Nachtigall lo osservò attentamente vestito come sai ora non potresti in nessun caso sono tutti mascherati uomini e donne ce l'hai un costume o roba del genere ma no è impossibile forse la prossima volta mi inventerò qualche trucco tese l'orecchio guardò di nuovo in strada attraverso la tendina tirando un sospiro ecco la carrozza adie Fredolin lo trattenne per il braccio non mi sfuggirai tanto facilmente devi portarmi con te ma collega lascia che pensi io a tutto il resto so bene che è pericoloso forse è proprio questo che mi attira ma ti ho già detto senza costume e mascherina ci sono dite che noleggiano costumi a luna del mattino ascolta Nachtigall all'angolo della Wickenburgstrasse c'è un negozio del genere ogni giorno ci passo davanti diverse volte e aggiunse frettolosamente con crescente eccitazione fermati qui ancora un quarto d'ora Nachtigall nel frattempo tenterò la sorte il proprietario della ditta abita probabilmente nello stesso edificio se non dovesse essere così allora rinuncio al mio proposito deciderà l'estino nel medesimo palazzo c'è un caffè mi pare che si chiami caffè Vindobona dice al cocchiere di avere dimenticato qualcosa in quel caffè entri io aspetto vicino alla porta mi riveli in fretta la parola d'ordine risali nella tua carrozza quanto a me se mi sarà riuscito di procurarmi un costume prendo subito un'altra carrozza e ti seguo il resto si vedrà ti do la mia parola Nachtigall che dividerò in ogni caso il rischio con te Nachtigall aveva tentato a più riprese di interrompere l'amico ma non ci riuscì Fridolin pagò il conto diede una mancia fin troppo lauta come gli sembrò s'addecesse allo stile di quella notte e uscì fuori era ferma una carrozza chiusa a cassetta immobile un cocchiare vestito tutto di nero con un alto cilindro sembra una carrozza funebre pensò Fridolin pochi minuti dopo giungeva a passo veloce alla casa d'angolo che cercava suonò si informò dal portiere se Gibiser il mascheraio abitava nel palazzo e sperò in segreto che non fosse così ma Gibiser abitava proprio là al piano sotto il magazzino dei costumi il portiere non sembrò neppure particolarmente sorpreso di quella visita a tarda ora anzi reso affabile della mancia di Fridolin osservò che durante il carnevale non capitava poi così di rado che qualcuno venisse a noleggiare costumi anche a quell'ora di notte fece luce con la candela dal basso finché Fridolin ebbe suonato al primo piano venne ad aprire proprio il signor Gibiser quasi avesse atteso dietro la porta magro senza barba calvo con una vestaglia a fiori fuori moda e un berretto alla turca con nappa sembrava un ridicolo vecchio da commedia Fridolin chiese ciò che desiderava e aggiunse che non badava affatto al prezzo ma Gibis l'obiettò quasi sprezzante non pretendo mai più di quanto mi spetti condusse Fridolin nel magazzino per una scala a chiocciola c'era odore di seta velluto profumi polvere e fiori secchi l'incerta oscurità era rotta da un baluginio rosso e argento improvvisamente innumerevoli piccole lampadine brillarono fra gli armadi aperti di un corridoio lungo e stretto che si perdeva nelle tenebre a destra e a sinistra pendevano costumi di ogni genere da una parte cavalieri scudieri contadini cacciatori dotti orientali buffoni dall'altra dama di corte castellane contadine cameriste regine della notte sopra i costumi si vedevano i corrispondenti copricapo Fridolin aveva l'impressione di passare fra due ali d'impiccati pronti a invitarsi a ballare gibbiser lo seguiva il signore desidera qualcosa di particolare lui catorce direttuar antico tedesco ho bisogno di un saio scuro e di una mascherina nera nient'altro in quel momento dal fondo del corridoio si sentì un tintinio di vetro fridolin fridolin fissò spaventato il mascheraio come se questi fosse obbligato a un chiarimento immediato ma gibbiser rimase impassibile cercò a tastoni un interruttore nascosto da qualche parte e un chiarore abbaccinante si riversò subito fino in fondo al corridoio illuminando un piccolo tavolo apparecchiato con piatti bicchieri e bottiglie da due sedi a destra e a sinistra si alzarono due giudici della Sacra Vemée in abito talare rosso mentre nello stesso istante scompariva una graziosa creatura tutta bianca gibbiser si precipitò a grandi passi in quella direzione allungò la mano sopra al tavolo e afferrò una parrucca bianca contemporaneamente sbucò da sotto il tavolo una ragazza graziosa giovanissima quasi una bambina in costume da pieret con calze di seta bianche attraversò correndo il corridoio e raggiunse Fridolin che fu costretto a prenderla fra le braccia gibbiser aveva lasciato cadere sul tavolo la parrucca e tratteneva a destra e a sinistra per le toghe i giudici della Vemée allo stesso tempo esclamò rivolto a Fridolin signore mi tenga ferma quella ragazzina la piccola si stringeva a Fridolin come a chiedere protezione sul suo visino magro bianco e incipriato spiccavano fintinei dal seno delicato saliva un profumo di rose e di cipria i suoi occhi sorridevano di furberia e di piacere loro signori rimarranno qui finché non li avrò consegnati alla polizia esclamò gibbiser che le salta in mente dissero i due e a una voce abbiamo aderito a un invito della signorina gibbiser rimollò e Fridolin sentì che diceva loro esiguo comunque un chiarimento o non si sono subito accorti di avere a che fare con una pazza rivolto a Fridolin scusi l'incidente signore oh non importa disse Fridolin avrebbe preferito restare lì o portare via con sé la piccola in qualsiasi luogo e a prezzo di qualsiasi conseguenza la ragazza lo guardava con occhi seducenti e infantili come ammaliata i giudici della Vemmè parlavano animatamente tra loro in fondo al corridoio gibbiser si rivolse con fare serio a Fridolin e chiese desidera dunque una tonaca signore un cappello da pellegrino una mascherina no disse la Pierret con occhi raggianti al signore devi dare un mantello di ermellino e un farsetto di seta rossa tu non muoverti di qui l'interruppe gibbiser e tira fuori una tonaca scura appesa fra un lanzichenecco e un senatore veneziano questa è la sua misura ed ecco il cappello adatto venga presto ora si fecero sentire di nuovo i giudici della Vemmè ci faccia uscire immediatamente signor gibbiser con sorpresa di Fridolin essi pronunciarono il nome gibbiser alla francese neanche per idea rispose Beffardo il mascheraio per il momento avranno la cortesia di attendere qui il mio ritorno nel frattempo Fridolin si infilò la tonaca annodò le due estremità del cordone bianco penzolante gibbiser in piedi su una piccola scala gli diede il cappello nero a larghe tese da pellegrino e Fridolin se lo mise in testa ma compiva tutte quelle azioni come fosse costretto poiché sentiva con sempre maggior forza che era il suo dovere restare là e aiutare la Pierrette minacciata da qualche pericolo la mascherina che gibbiser gli diede e che si provò subito emanava un profumo strano e un po' ripugnante precedimi disse gibbiser alla piccola e indicò imperiosamente la scala Pierrette si voltò gettò uno sguardo in fondo al corridoio e si congedò accennando un saluto gaio ma velato di malinconia Fridolin seguì il suo sguardo ora non c'erano più i giudici della veme ma due giovani snelli in fracca e cravatta bianca che tuttavia avevano ancora le mascherine rosse sul viso Pierrette scese agilmente la scala a chiocciola dopo di lei gibbiser infine Fridolin nell'anticamera gibbiser aprì una porta che conduceva alle stanze interne e disse a Pierrette per ora vai a letto creatura abietta ci vedremo non appena avrò fatto i conti con quei signori di sopra bianca e delicata era ferma sulla porta lanciò un'occhiata a Fridolin e scosse tristamente la testa in un grande specchio a muro sulla destra Fridolin vide un pellegrino magro che non era altri che lui e si meravigliò che tutto procedesse così naturalmente Pierrette era scomparsa il vecchio mascheraio aveva chiuso la porta alle sue spalle poi aprì quella dell'appartamento e costrinse Fridolin a uscire sul pianerottolo mi scusi disse Fridolin quanto le devo lasci pure signore mi pagherà alla riconsegna mi fido di lei ma Fridolin non si mosse giuri che non farà nulla di male a quella povera ragazza che gliene importa signore poco fa ho sentito che definiva pazza la piccola e adesso la chiamata creatura abietta una sorprendente contraddizione non può negarlo ebbene signore replicò Gibiser con tono teatrale non è forse il pazzo un abietto dinanzi a dio Fridolin rabbrividì disgustato comunque sia osservò poi si troverà un rimedio sono un medico domani riparleremo della cosa Gibiser risebbe fardo e in silenzio sul pianerotolo si accese improvvisamente la luce la porta fra Gibiser e Fridolin si chiuse e fu subito sbarrata mentre scendeva le scale Fridolin si liberò del cappello della tonaca e della mascherina e prese tutto sotto braccio il portiere aprì il portone la carrozza funebre era ferma di fronte il cocchiere immobile a cassetta Naktigal si affrettava proprio allora a lasciare il caffè e non sembrò troppo piacevolmente sorpreso di trovare Fridolin puntuale all'appuntamento allora ti sei veramente procurato un costume? come vedi e la parola d'ordine? dunque insisti? assolutamente bene la parola d'ordine è Danimarca sei matto Naktigal perché mai? niente niente quest'estate sono stato per caso sulla costa danese allora monta ma non subito dammi il tempo di noleggiare una carrozza qui di fronte Naktigal a noi si accese con calma una sigaretta nel frattempo Fridolin attraversò in fretta la strada prese un fiac e con tono ingenuo quasi si trattasse di uno scherzo ordinò al cocchiere di seguire la carrozza funebre che si avviava proprio allora poco più avanti passarono per la allerstrasse poi sotto un viadotto ferroviario dirigendosi verso la periferia e proseguirono per strade secondarie deserte e mal illuminate Fridolin pensò all'eventualità che il cocchiere perdesse le tracce della carrozza funebre ma ogni volta che dal finestrino aperto sporgeva la testa nell'aria insolitamente calda vedeva sempre l'altra vettura a una certa distanza davanti a loro il cocchiere dall'alto cilindro nero immobile a cassetta potrebbe anche finir male pensò Fridolin mentre sentiva ancora il profumo di rose e cipria del seno di Pierrette quale strano romanzo ho sfiorato si domandò forse non sarei dovuto andar via non dovevo lasciarla sola ma dove mi trovo ora? salivano lentamente passando fra ville modeste ora Fridolin credete di orientarsi in tempi passati si era talvolta spinto fin là durante le sue passeggiate forse avevano preso la strada del Galizimberg a sinistra nella valle vide brillare sfumate nella nebbia le mille luci della città sentì il rumore di ruote e guardò indietro dal finestrino fu contento che due vetture lo seguissero così non poteva destare alcun sospetto nel cocchiere della carrozza funebre all'improvviso la carrozza voltò di lato con un poderoso scossone e cominciò a scendere come in una gola fra cancelli muri e pendii Fridolin pensò che era ormai tempo di mascherarsi si tolse la pelliccia e indossò il saio proprio come usava fare ogni mattina nel suo reparto d'ospedale quando si infilava il camice e si sentì come sollevato al pensiero che fra poche ore se tutto andava bene avrebbe fatto il suo giro come ogni giorno fra i letti dei suoi malati un medico pronto a soccorrere la carrozza si fermò se non scendessi affatto pensò Fridolin e tornassi invece subito indietro ma dove andare dalla piccola Pierrette dalla donnina nella Buchfeldgasse o da Marianne la figlia del defunto oppure a casa e si accorse con leggero raccapriccio che nessun altro posto lo attirava meno di casa sua o era così perché la strada di casa gli sembrava la più lunga no non posso tornare indietro pensò avanti in ogni caso anche a costo di morire rise della parola grossa ma non si sentiva certo in vena di scherzare il cancello di un giardino era spalancato la carrozza funebre dinnanzi a lui si inoltrò più giù nella gola o nell'oscurità che gli faceva tale effetto Nachtigall comunque doveva essere già sceso Fridolin smontò a sua volta in fretta ordinò al cocchiere di attendere il suo ritorno sulla curva prima della discesa anche se si tratteneva a lungo e per sentirsi più sicuro lo pagò largamente in anticipo e gli promise la stessa somma per il viaggio di ritorno intanto giunsero le carrozze che seguivano la sua dalla prima Fridolin vide scendere una donna velata poi entrò nel giardino e si mise la mascherina uno stretto sentiero illuminato dalla casa conduceva al portone due battenti si spalancarono e Fridolin si trovò in un piccolo atrio bianco fu accolto da un suono di armonium a destra e a sinistra c'erano due servitori in livra scura il volto coperto da una mascherina grigia parola d'ordine gli fu sussurrato a due voci danimarca rispose uno dei servitori prese la sua pelliccia sparì in una stanza attigua l'altro aprì una porta e Fridolin entrò in un salone in penombra quasi buio le pareti rivestite di seta nera alcune maschere tutte in costumi ecclesiastici andavano qua e là erano circa sedici venti persone monaci e monache l'armonium suonava una melodia sacra italiana che crescendo dolcemente sembrava scendere dall'alto in un angolo della sala era fermo un gruppetto di tre monaci e due monache lo guardarono di sfuggita ma distolsero subito lo sguardo quasi di proposito Fridolin si accorse di essere l'unico ad avere il capo coperto si tolse il cappello da pellegrino e passeggiò avanti e indietro cercando di dare il meno possibile nell'occhio un monaco gli sfiorò il braccio e salutò con un cenno del capo ma da dietro la mascherina uno sguardo penetrante si fissò per un secondo negli occhi di Fridolin fu avvolto da un profumo strano eccitante come di giardini del sud un braccio lo sfiorò di nuovo questa volta è quello di una monaca come gli altri portava anche lei un velo nero che le cingeva la fronte il capo e la nuca sotto il merletto di seta nera della mascherina splendeva una bocca rosso sangue dove mi trovo pensò Fridolin tra folli tra congiurati sono capitato in una riunione di qualche setta religiosa avevano forse pagato Nachtigall perché portasse con sé un non iniziato di cui volevano farsi beffe tuttavia per essere quello uno scherzo di carnevale tutto gli sembrò troppo serio troppo monotono troppo sinistro all'armonium si era aggiunta una voce femminile un'anticaria religiosa italiana risuonò nella sala erano tutti fermi sembravano ascoltare anche Fridolin si abbandonò per un attimo a quella melodia meravigliosa e crescente improvvisamente una voce di donna sussurrò alle sue spalle non si volti fa ancora in tempo ad allontanarsi lei è estraneo all'ambiente se la scoprissero per lei finirebbe male Fridolin intrasalì per un secondo pensò di seguire l'avvertimento ma la curiosità l'attrazione e soprattutto il suo orgoglio furono più forti di ogni riflessione ormai sono giunto fino a questo punto pensò finisca come vuole e scosse la testa in senso di diniego senza voltarsi la voce dietro di lui sussurrò mi dispiacerebbe per lei ora si voltò vide la bocca rosso sangue luccicare attraverso i merletti due occhi scuri si immersero nei suoi resterò disse con un tono eroico a lui stesso ignoto e volse di nuovo altrove lo sguardo il canto cresceva meravigliosamente il suono dell'armonium aveva ora un timbro nuovo non più religioso ma profano e scrociava esuberante come un organo guardandosi intorno Fridolin notò che tutte le monache erano sparite e in sala si trovavano solo monaci frattanto anche la voce aveva abbandonato la sua cupa serietà e con un abile gorgheggio increscendo si era trasformata in un canto limpido ed esultante ma invece dell'armonium aveva preso a suonare mondano e sguaiato un pianoforte Fridolin riconobbe subito il tocco selvaggio ed eccitante di Nachtigall la voce femminile poco prima così nobile e dolce con un acuto e voluttuoso grido finale si era per così dire librata in aria e dissolta nell'eternità a destra e a sinistra si erano aperte delle porte da un lato Fridolin riconobbe i contorni sfumati di Nachtigall al pianoforte nella sala di fronte illuminata invece di una luce accecante c'erano donne immobili il capo la fronte e il collo avvolti in veli scuri mascherine nere di pizza sul viso ma per il resto completamente nude gli occhi di Fridolin erravano cupidi dalle formose alle snelle dalle delicate alle splendide e fiorenti e poiché ognuna di quelle figure nude restava pur sempre un segreto e dalle mascherine nere grandi occhi si volgevano raggianti verso di lui come il più insolubile degli enigmi l'ineffabile piacere della vista gli si trasformava in un quasi insopportabile tormento di desiderio ma anche gli altri dovevano provare la stessa sensazione i primi sospiri estasiati si mutarono in gemiti che sembravano originati da profondo dolore da qualche parte si levò un grido e improvvisamente come se fossero inseguiti i monaci lasciarono la sala in penombra non più rivestiti delle loro tonache ma in festosi costumi da cavalieri bianchi gialli azzurri rossi e si precipitarono tutti verso le donne che li accolsero con risate furenti quasi malvagie Fridolin era l'unico ad essere rimasto in abito da monaco e si allontanò furtivamente piuttosto impaurito nell'angolo più lontano dove si trovò vicino a Nachtigall che rivolgeva le spalle Fridolin vide che Nachtigall aveva una benda sugli occhi ma allo stesso tempo credete di notare che dietro quella benda i suoi occhi si fissassero penetranti nel grande specchio di fronte nel quale i variopinti cavalieri volteggiavano con le loro ballerine nude a un tratto una delle donne si fermò accanto a Fridolin e sussurrò poiché nessuno parlava forte come se anche le voci dovessero restare in segreto perché così solo perché non partecipi al ballo Fridolin vide che da un altro angolo due gentili uomini lo osservavano insistentemente e sospettò che la creatura accanto a lui snella e dal corpo fanciullesco fosse stata mandata per metterlo alla prova e tentarlo ciò nonostante aprì le braccia e voleva attirarla a sé quando un'altra delle donne si staccò dal suo ballerino e corse verso Fridolin capì subito che si trattava di colei che lo aveva messo in guardia poco prima la donna fece finta di vederlo per la prima volta e sussurrò ma così chiaramente che la si dovette udire anche nell'angolo opposto sei tornato finalmente e ridendo divertita non c'è più nulla da fare sei stato scoperto poi rivolta alla ragazza dal corpo fanciullesco concedimilo solo per due minuti dopo potrai averlo di nuovo fino al mattino se vuoi e più a bassa voce quasi con gioia è lui è proprio lui l'altra stupita davvero e la giunse con passo leggero i cavalieri non fare domande disse ora a Fridolin la donna che gli era rimasta accanto e non meravigliarti di nulla ho cercato di sviarli ma ti dico subito che non mi riuscirà ancora per molto fuggi prima che sia troppo tardi e ogni attimo può essere troppo tardi vada che non seguano le tue tracce nessuno deve venire a sapere chi sei la tua tranquillità la pace della tua esistenza sarebbero finita per sempre vai ti rivedrò impossibile allora resto il suo corpo nudo fu scosso da un tremito che gli si trasmise e quasi gli ottenebrò i sensi non può essere in gioco più della mia vita disse e in questo momento tu vali la mia vita ne prese le mani e cercò di attirarla a sé la donna sussurrò di nuovo come disperata va Fridolin rise e sentì l'eco del suo riso come in sogno vedo bene dove mi trovo non vi siete certo riuniti solo perché uno si inebri a guardarvi tu vuoi soltanto beffarti di me per farmi impazzire del tutto fra poco sarà troppo tardi va egli non voleva ascoltarla non ci sono forse delle stanze segrete in cui si ritirano le coppie che hanno fatto amicizia o alla fine si congederanno tutti con un cortese baciamano non fanno certo questa impressione e accennò alle coppie che al suono furioso del pianoforte continuavano a ballare nella sala accanto splendente di luce corpi bianchi ardenti stretti in sete azzurre rosse gialle gli sembrò che ora nessuno si culasse di lui e della donna che aveva accanto erano completamente soli nel salone centrale semibuio speranza vana e la mormorò qui non ci sono stanze come le sogni tu è l'ultimo minuto utile fuggi vieni con me la donna scosse violentamente la testa come disperata Fridolin rise di nuovo e non riconobbe il suo riso vuoi prendermi in giro questi uomini e queste donne sarebbero dunque venuti qui solo per eccitarsi reciprocamente e poi le spingersi chi può proibirti di venire via con me se vuoi e la trasse un profondo respiro e chinò il capo ah ora capisco disse lui è questa la pena che avete stabilito per chi si introduce qui senza invito non ne avreste potuto escogitare una più crudele risparmiamela grazie a me infliggimi un'altra punizione che non sia quella di dover andare via senza di te sei pazzo non posso allontanarmi di qui né con te né con qualsiasi altro e chi volesse tentare di seguirmi perderebbe la sua e la mia vita Fridolin era come ubriaco non solo di lei del suo corpo profumato della sua bocca rossa e ardente non solo dell'atmosfera di quel luogo dei segreti voluttuosi che lo circondavano si sentiva ebbro e allo stesso tempo assetato di tutte le esperienze di quella notte nessuna delle quali si era conclusa ebbro di se stesso della sua audacia della trasformazione che sentiva avvenire in sé sfiorò il velo che avvolgeva il capo della donna quasi volesse toglierglielo lei gli fermò le mani una notte saltò in mente a qualcuno di allontanare durante il ballo il velo dal viso di una di noi gli fu strappata la mascherina e fu cacciato a frustate e la donna forse hai letto di una ragazza giovane e bella è successo solo poche settimane fa che si è avvelenata il giorno prima delle nozze Fredolin ricordava perfino il nome lo disse non si trattava di una ragazza di famiglia principesca che era stata fidanzata con un principe italiano e la annui a un tratto comparve uno dei cavalieri il più distinto di tutti l'unico in costume bianco con un inchino breve e cortese ma allo stesso tempo imperioso invitò a ballare la donna con cui Fredolin stava parlando a Fredolin sembrò che ella esitasse un istante ma l'altro l'aveva già cinta alla vita e aveva raggiunto volteggiando le altre coppie che ballavano nella vicina sala illuminata Fredolin si trovò solo e quella solitudine improvvisa lo assalì come un gelo si guardò intorno in quel momento nessuno sembrava curarsi di lui forse c'era ancora un'ultima possibilità di allontanarsi in colume non riusciva a capire cosa mai lo tenesse tuttavia inchiodato nel suo angolo dove poteva ancora sentirsi inosservato il timore di una ritirata ingloriosa è un po' ridicola il desiderio tormentoso e inappagato di quel meraviglioso corpo femminile in cui il profumo continuava a sfiorarlo oppure il pensiero che gli avvenimenti precedenti erano solo serviti a provare il suo coraggio e che alla fine gli sarebbe toccata in premio quella magnifica donna comunque si rendeva conto di non poter sopportare più a lungo quello stato di tensione e di doverne uscire sfidando ogni pericolo qualsiasi decisione prendesse non poteva costargli la vita forse si trovava tra pazzi forse tra libertini sicuramente non tra furfanti o delinquenti gli venne l'idea di avvicinarsi a loro confermare di essere un intruso e dichiararsi pronto a risolvere la questione secondo il codice d'onore solo così con una specie di finale maestoso poteva concludersi quella notte se doveva significare qualcosa di più di una vaga e confusa successione di avventure malinconiche squallide ridicole e lascive nessuna delle quali era stata tuttavia vissuta fino in fondo e con un sospiro di sollievo si accinse ad attuare il suo proposito ma in quell'attimo qualcuno accanto a lui mormorò parola d'ordine un cavaliere nero gli si era avvicinato all'improvviso e poiché Fridolin non aveva risposto subito ripete la domanda la nemarca disse Fridolin giusto signore questa è la parola d'ordine d'ingresso e quella interna se è lecito Fridolin taceva non vuole avere la bontà di dirci la parola d'ordine della casa aggiunse con tono tagliente Fridolin si strinse nelle spalle l'altro avanzò al centro della sala alzò la mano il pianoforte t'acqua il ballo si interruppe si avvicinarono altri due cavalieri l'uno in giallo l'altro in rosso parola d'ordine signore dissero simultaneamente l'ha dimenticata rispose Fridolin con un sorriso vuoto e si sentì tranquillo è una disgrazia disse l'uomo in giallo aver dimenticato la parola d'ordine equivale per noi a non averla mai saputa affluiscono in sala altri uomini in maschera le porte da entrambi i lati si chiusero Fridolin era il solo in abito da monaco fra cavalieri vari opinti giù la maschera dissero alcuni simultaneamente Fridolin allungò le braccia come per proteggersi essere il solo avviso scoperto fra gli altri mascherati gli sarebbe sembrato mille volte peggio che trovarsi improvvisamente nudo fra gente vestita e con voce decisa disse se qualcuno dei signori dovesse sentirsi offeso nel suo onore per la mia presenza qui mi dichiaro pronto a dargli soddisfazione nella maniera consueta mi toglierò la mascherina solo se tutti loro faranno altrettanto qui non si tratta di soddisfazione disse il cavaliere in rosso che finora non aveva ancora parlato ma di castigo giù la maschera ingiunse di nuovo un altro con voce chiara e insolente che ricordò a Fridolin il tono di comando di un ufficiale vogliamo dirla in faccia e non sulla maschera ciò che l'attende non me la tolgo disse Fridolin in tono ancora più drastico e guai a chi osa toccarmi un braccio si protese a un tratto verso il suo viso come per strappargli la maschera quando improvvisamente una delle porte si aprì e comparve una donna sulla cui identità Fridolin non poteva avere dubbi era in costume da suora così come l'aveva vista la prima volta ma dietro di lei nella sala sgargiante di luci si potevano vedere le altre nude i volti velati pigiate fra loro e mute una schiera impaurita la porta si richiuse subito lasciatelo disse la suora sono pronta a riscattarlo ci fu un silenzio breve e profondo come se fosse accaduto qualcosa di immane poi il cavaliere nero che aveva chiesto per primo a Fridolin la parola d'ordine si rivolse alla monaca dicendo conosci le conseguenze di questo tuo atto le conosco come un profondo sospiro di sollievo attraversò la sala lei è libero disse il cavaliere a Fridolin abbandonir subito questa casa e si guardi bene dall'indagare oltre sui segreti che ha cercato di penetrare se dovesse tentare di mettere qualcuno sulle nostre tracce riesca o no il tentativo lei sarebbe perduto Fridolin era immobile in che modo questa donna dovrebbe riscattarmi chiese nessuna risposta alcune braccia indicarono la porta facendogli capire che doveva allontanarsi senza indugi Fridolin scosse la testa mi infliggano la pena che vogliono signori non pollererò che un altro essere umano paghi per me non potrebbe più mutare la sorte di questa donna disse allora pacatamente il cavaliere nero quando qui si è preso un impegno non si può più tornare indietro la monaca annui piano come a confermare va disse a Fridolin no rispose questi alzando la voce la vita non ha più valore per me se devo andare via di qui senza di te non chiedo ad onde vieni né chi sei che può importare loro miei sconosciuti signori recitare fino in fondo questa commedia carnevalesca anche se mira ad avere un finale serio chiunque loro siano signori conducono comunque anche un'altra vita diversa da questa io però non recito alcuna commedia neanche stasera e se finora sono stato costretto a farlo adesso smetto sento di essermi imbattuto in un destino che non ha più nulla a che fare con questa mascherata rivelerò loro il mio nome mi toglierò la maschera prendendo su di me tutte le conseguenze guardati dal farlo esclamò la monaca ti perderesti senza salvarmi va e rivolta agli altri eccomi sono vostra di tutti il costume oscuro scivolò via come d'incanto la donna apparve in tutto lo splendore del suo corpo bianco afferrò il velo che le cingeva la fronte il capo e il collo e se ne liberò con un meraviglioso gesto circolare il velo si posò a terra mentre i capelli scuri le cadevano sulle spalle sul seno e sui fianchi ma prima ancora di poter cogliere l'immagine del suo viso Fridolin fu afferrato da braccia robuste trascinato via e spinto verso la porta un attimo dopo era nell'atrio la porta si richiuse alle sue spalle un servitore mascherato gli portò la pelliccia e lo aiutò a indossarla mentre il portone si apriva si allontanò in fretta come spinto da una forza invisibile si trovò in strada la luce dietro di lui si spense si guardò intorno e scorse la casa silenziosa con le finestre chiuse da cui non trapelava alcun lume bisogna che mi fissi bene in mente ogni cosa pensò innanzitutto devo ritrovare la casa il resto si vedrà dopo era avvolto dalle tenebre più in alto a una certa distanza là dove doveva attendere la sua carrozza si vedeva la luce rosso cupo di una lanterna dal fondo della strada avanzò la carrozza funebre quasi l'avesse chiamata un servitore aprì la portiera ho la mia carrozza disse Fridolin il servitore scrollò la testa è andata via ritornerò in città a piedi il servitore rispose con un gesto della mano così poco servile da escludere ogni opposizione il cilindro del cocchiere si ergeva ridicolmente alto nella notte il vento soffiava forte nel cielo volavano nuvole violette dopo le precedenti esperienze Fridolin non poteva illudersi di avere altra scelta se non salire su quella carrozza che si mise subito in moto si sentiva deciso a far luce a suo rischio su quell'avventura non appena fosse possibile mi sembrava che la vita non avesse più alcun senso se non gli riusciva di ritrovare la misteriosa donna che in quel momento stava pagando il prezzo della sua salvezza e di che prezzo si trattasse era fin troppo facile immaginarselo ma che ragione aveva di sacrificarsi per lui sacrificarsi ma era poi una donna per la quale ciò che la minacciava ciò che stava ora subendo poteva significare un sacrificio se partecipava a quei convegni e non era certo la prima volta poiché conosceva così bene le consuetudini della casa che poteva importarle di sottostare alle voglie di uno o di tutti quei cavalieri si poteva mai essere altro che una prostituta potevano tutte quelle donne essere qualcos'altro prostitute non c'era dubbio anche se accanto a quella che era appunto una vita da prostitute ne conducevano un'altra per così dire borghese e tutto ciò che aveva appena vissuto non era forse un infame scherzo che si erano permessi con lui uno scherzo già previsto preparato forse addirittura studiato perché si fosse introdotto là senza invito eppure se ripensava a quella donna che lo aveva messo in guardia sin dal primo momento e ora era pronta a pagare per lui nella voce nel portamento nella regale nobilità del suo corpo nudo c'era qualcosa che non poteva assolutamente essere falso o era abbastata forse solo l'improvvisa apparizione di lui di Fridolin a operare in lei il miracolo di una trasformazione dopo tutte le avventure di quella notte ritenne possibile era sicuro di non paccare di vanità anche un miracolo simile forse ci sono ore notti pensò in cui da uomini che in circostanze normali non hanno alcun particolare ascendente sull'altro sesso si sprigiona un tale fascino strano e irresistibile la carrozza continuava a risalire il colle normalmente avrebbe dovuto già da tempo voltare nella strada principale che intenzioni avevano nei suoi confronti dove doveva condurlo la carrozza la commedia doveva forse avere ancora un seguito di che genere era prevista forse una chiarificazione il lieto ritrovarsi in un altro posto il premio dopo il brillante superamento della prova la missione nella società segreta il possesso indisturbato della splendida monaca i finestrini erano chiusi Fridolin cercò di guardar fuori erano opachi voleva aprirli provò a destra e a sinistra impossibile opaca e chiusa era anche la lastra di vetro che lo divideva dalla cassetta picchiò sui vetri chiamò gridò la carrozza continuava la sua corsa tentò di aprire le portiere a destra a sinistra non cedettero a nessuna pressione i suoi ripetuti richiami si smorzarono nel cigolio delle ruote nel sibilare del vento la carrozza cominciò a sobbalzare procedeva in discesa sempre più veloce Fridolin in preda ad agitazione e angoscia stava per fracassare uno dei finestrini opachi quando la vettura si fermò all'improvviso le due portiere si aprirono contemporaneamente come mosse da un meccanismo quasi ad offrire beffardamente a Fridolin la scelta fra destra e sinistra smontò i portiere si chiusero e senza che il cocchiere si curasse affatto di lui la carrozza si allontanò nella notte per l'aperta campagna il cielo era coperto le nuvole correvano veloci il vento soffiava Fridolin si trovava sulla neve che diffondeva tutto intorno un pallido chiarore era solo la pelliccia aperta sulla tonaca da monaco il cappello da pellegrino in testa e non si sentiva proprio a suo agio poco distante correva un'ampia strada una processione di lampioni dalle luci incerte e oscillanti segnava la direzione della città Fridolin si avviò e per potersi ritrovare il più presto possibile fra la gente accorciò il cammino attraversando la campagna coperta di neve e leggermente in declino coi piedi completamente bagnati giunse in una stradina stretta e semibuia camminò dapprima fra alti steccati che scricchiolavano al vento dopo il primo angolo si trovò in una strada un po' più larga dove si alternavano rade casette e cantieri e diri vuoti dall'orologio di un campanile ritoccarono le tre del mattino qualcuno gli veniva incontro un tipo in giacca corta le mani nelle tasche dei pantaloni la testa incassata fra le spalle il cappello calcato sugli occhi Fridolin si tenne pronto a rintuzzare un'eventuale aggressione ma inaspettatamente il vagabondo fece dietro fronte e scappò che significa questo si chiese Fridolin poi pensò che doveva avere un aspetto abbastanza sinistro si tolse il cappello da pellegrino si abbottonò il cappotto sotto cui ciondolava fin sopra le caviglie l'abito da monaco voltò di nuovo si trovava in una strada periferica un uomo in abito campagnolo gli passò accanto e lo salutò come si saluta un prete il raggio di luce di un lampione cadeva sull'insegna stradale della casa all'angolo Lib Harzal dunque non molto lontano dalla casa che aveva lasciato nemmeno un'ora prima per un secondo fu allettato dall'idea di tornare indietro e attendere nei pressi della villa lo sviluppo degli avvenimenti ma desistette subito considerando che si sarebbe esposto a un grave pericolo senza tuttavia avvicinarsi di più alla soluzione dell'enigma il pensiero di quel che doveva svolgersi in quel momento nella villa lo riempì di rabbia disperazione vergogna e paura quello stato d'animo era così insopportabile che quasi gli dispiacque di non essere stato aggredito dal vagabondo incontrato poco prima e di non giacere presso uno steccato della stradina sperduta con un coltello confitto fra le costole così quell'assurda notte con le sue avventure insulse e incompiute avrebbe almeno avuto alla fine una specie di significato ritornare a casa come stava per fare gli sembrò addirittura ridicolo ma non era ancora tutto perduto c'era tempo anche domani giurò di non darsi pace prima di aver ritrovato la bella donna la cui nudità abbagliante lo aveva inebriato e solo allora pensò ad Albertin ma come se fosse anche lei una donna da conquistare quasi che Albertin non potesse o non dovesse essere di nuovo sua prima che egli l'avesse tradita con tutte le altre di quella notte con la donna nuda con la Pierrette con Marianne con la prostituta del vicolo e non doveva anche preoccuparsi di ritrovare quell'insolente studente che lo aveva urtato passando e sfidarlo a duello alla sciabola meglio ancora alla pistola che gli importava della vita di un altro o della propria bisognava metterla in gioco soltanto per dovere per spirito di sacrificio mai per capriccio per passione o semplicemente per misurarsi col destino e si ricordò di nuovo che probabilmente portava già in sé il germe di una malattia mortale non sarebbe troppo stupido morire perché un bambino affetto da difterite ti ha tossito in faccia forse era già malato non aveva non aveva la febbre in quel momento non era forse a letto a casa e tutto ciò che credeva di aver vissuto quella notte non era altro che delirio Fridolin aprì quanto più possibile gli occhi si toccò la fronte e le guance si tastò il polso appena accelerato tutto normale era completamente sveglio continuò per quella strada in direzione della città dietro di lui venivano alcuni carretti diretti al mercato gli passarono accanto con fracasso di quando in quando incontrava gente vestita poveramente per la quale la giornata cominciava a quell'ora dietro la finestra di un caffè a un tavolo sul quale oscillava la fiamma di un lume a gas stava seduto un uomo grasso una sciarpa attorno al collo la testa appoggiata sulle mani e dormiva le case erano ancora immerse nel buio poche finestre isolate erano illuminate Fridolin credette di sentire come gli uomini a poco a poco si svegliassero e sembrava quasi di vederli stirarsi nei letti e prepararsi ad affrontare la loro povera dura giornata anche egli stava per iniziare la sua che non era però misera e triste con uno strano batticuole si rese conto con gioia che fra poche ore sarebbe passato in camice bianco fra i letti dei suoi malati all'angolo era fermo un fiac il cocchiere dormiva a cassetta Fridolin lo svegliò gli dette il suo indirizzo e montò erano le 4 del mattino quando salì le scale di casa andò prima nello studio ripose accuratamente il costume in un armadio e poiché voleva evitare che Albertin si destasse si tolse le scarpe e i vestiti prima di entrare in camera da letto accese senza far rumore la fiocca lampada del suo comodino Albertin dormiva immobile le braccia incrociate dietro la nuca le labbra semiaperte segnate da ombre di dolore era un volto a lui sconosciuto si chinò sulla sua fronte che subito si aggrottò come se l'avesse toccata i suoi tratti si deformarono stranamente e all'improvviso sempre nel sonno scoppiò in una risata così stridula che Fridolin si spaventò istintivamente la chiamò per nome come per risposta e la rise di nuovo in modo del tutto strano quasi sinistro Fridolin la chiamò ancora una volta più forte ora Albertin aprì gli occhi lentamente a fatica e lo guardò fisso come se non lo riconoscesse Albertin e gli chiamò la terza volta solo allora lei sembra tornare in sé e il suo sguardo esprimeva difesa paura e addirittura terrore levò le braccia in alto senza senso e come disperata la bocca rimase aperta che ti succede? chiese Fridolin con il fiato sospeso e poiché lei continuava a fissarlo terrorizzata aggiunse come per calmarla Albertin sono io Albertin respirò profondamente tentò di sorridere lasciò ricadere le braccia sulla coperta e come trasognata chiese è già giorno fra poco rispose Fridolin sono le quattro passate sono rientrato in questo momento lei taceva e gli continuò il consigliere è morto era già in agonia quando sono arrivato e naturalmente non potevo lasciare subito soli familiari e la annui ma sembrò averlo appena ascoltato capito fissava il vuoto come attraverso di lui ed egli ebbe l'impressione per quanto insensata potesse anche sembrargli subito quell'idea che Albertin dovesse essere a conoscenza di tutte le sue avventure notturne si chinò su di lei e le sfiorò la fronte e la rabbrividì leggermente che hai e gli chiese di nuovo Albertin scosse solo piano la testa Fridolin le passò la mano sui capelli Albertin che ti succede ho sognato e la disse con distacco che cosa chiese lui dolcemente tante cose non riesco bene a ricordarmene forse ci riuscirai era tutto così confuso e ho sonno anche tu devi avere sonno no? niente affatto Albertin probabilmente non dormirò più sai bene che quando rientro così tardi la cosa più razionale sarebbe che mi mettesse subito a tavolino proprio in queste ore mattutine si interruppe ma non vuoi raccontarmi piuttosto il tuo sogno? e sorrise un po' forzatamente e la rispose tuttavia dovresti almeno di stenderti un pochino Fridolin esitò un attimo poi fece come lei desiderava e si sdraiò al suo fianco ma si guardò bene dal toccarla una spada ci divide pensò ricordandosi di aver fatto una volta in un'occasione simile la stessa osservazione semi scherzosa tacevano stavano sdraiati con gli occhi aperti sentendo la reciproca vicinanza lontananza dopo un certo tempo egli appoggiò la testa sul braccio la osservò a lungo come se riuscisse a vedere oltre le semplici fattezze esteriori del viso il tuo sogno disse ad un tratto di nuovo e fu come se lei avesse solo atteso quell'esortazione Albertin gli diede una mano lui la prese e secondo l'abitudine più distrattamenti che con tenerezza tenne strette come per gioco nelle sue le sottili dita di lei ma ella cominciò ricordi la stanza nella piccola villa sul Wörthsee dove stavo con i miei genitori l'estate del nostro fidanzamento Fridolin a lui così è cominciato il sogno sono entrata in quella stanza non so bene da dove come un'attrice in scena sapevo soltanto che i genitori erano in viaggio e mi avevano lasciata sola la cosa mi stupiva poiché l'indomani si dovevano celebrare le nostre nozze ma l'abito da sposa non era ancora arrivato o forse mi sbagliavo aprì l'armadio per accertarmene invece dell'abito da sposa erano appesi una gran quantità di altri vestiti o meglio costumi di quelli che si vedono all'opera sfarzosi orientali quali di questi devo indossare per le nozze pensavo ma ecco che l'armadio improvvisamente si è richiuso o è scomparso non ricordo più bene la stanza era tutta illuminata ma fuori della finestra era notte fonda a un tratto sei comparso tu eri venuto per mare accompagnato da galeotti li vidi mentre si allontanavano nell'oscurità indossavi preziosi vestiti d'oro e seta avevi al fianco un pugnale con pendagli d'argento e mi prendesti in braccio portandomi fuori attraverso la finestra adesso ero anch'io vestita splendidamente come una principessa stavamo all'aperto nella luce del crepuscolo e una nebbiolina grigia ci arrivava fino alle caviglie il paesaggio era quello a noi noto da una parte il lago sullo sfondo i monti vedevo anche che le ville sembravano uscite da una scatola di balocchi noi due eravamo però sospesi in aria no volavamo al di sopra della nebbia e io pensavo questo è dunque il nostro viaggio di nozze poco dopo non volavamo più camminavamo per un sentiero nel bosco quello che conduce alla Elizabeth e improvvisamente ci trovammo in alta montagna in una specie di radura circondata da tre lati dal bosco mentre alle nostre spalle sergeva una ripida parete rocciosa ma sopra di noi c'era un cielo stellato così azzurro e sconfinato quale non esiste affatto nella realtà e quello era il soffitto della nostra camera nuziale mi stringesti fra le braccia e mi amasti intensamente anche tu spero disse Fridolin con un invisibile sorriso maligno credo che ti amassi ancora più intensamente rispose seria Albertin ma come spiegartelo nonostante l'intensità dell'abbraccio la nostra tenerezza era molto malinconica come per il presentimento di un dolore ineluttabile a un tratto fu giorno il prato era chiaro e variopinto il bosco tutto intorno deliziosamente bagnato di rugiada e sopra la parete di roccia tremolavano i raggi del sole per noi era però giunta l'ora di tornare di nuovo nel mondo tra gli uomini ma era accaduto qualcosa di terribile i nostri vestiti erano spariti qui presa da un orrore senza pari provavo una vergogna accocente fino all'annientamento interiore e allo stesso tempo ira nei tuoi confronti come se fossi tu il solo responsabile della sciagura e tutti quei sentimenti orrore vergogna ira non erano paragonabili per intensità a nessuna sensazione che avessi mai provato da sveglia tu invece conscio della tua colpa scappasti via nudo come eri per scendere a valle e procurarti degli abiti quando sparisti mi sentii come più leggera non avevo compassione né mi preoccupavo per te ero contenta di essere sola correvo felice sul prato e cantavo un motivo ascoltato al ballo in maschera avevo una voce meravigliosa e desideravo che mi sentissero giù in città non vedevo la città ma sapevo della sua esistenza si trovava molto al di sotto di me circondata da alte mura era una città fantastica che non riesco a descrivere né orientale e neppure un'antica città tedesca e tuttavia un po' dell'una e un po' dell'altra in ogni caso una città sepolta da tempo e per sempre improvvisamente mi trovai distesa sul prato nella luce del sole molto più bella di quanto sia mai stata in realtà e mentre ero là uscì dal bosco un signore un giovane in un vestito chiaro moderno rassomigliava un po' ora me ne rendo conto a quel danese di cui ti ho parlato ieri andava per la sua strada si limitò a salutarmi molto cortesemente quando mi passò davanti si diresse subito verso la parete rocciosa e la osservò attentamente come se pensasse al modo di superarla ma contemporaneamente vedevo anche te correvi nella città sepolta di casa in casa di bottega in bottega ora sotto portici ora per una specie di bazar turco e acquistavi per me le cose più belle che trovavi vestiti biancherie scarpe gioielli e riponevi tutto in una borsa di cuoio giallo piccola ma capiente ma eri sempre inseguito da una massa di gente che non riuscivo a vedere udivo solo le loro grida cupe e minacciose ed ecco che ricomparve l'altro il danese che si era fermato prima davanti alla parete di roccia veniva di nuovo dal bosco verso di me sapevo che nel frattempo aveva attraversato il mondo intero sembrava un altro ed era tuttavia lo stesso si fermò come la prima volta davanti alla parete di roccia sparì di nuovo poi riapparve dal bosco sparì riapparve la scena si ripete due tre o cento volte era sempre lo stesso e sempre un altro salutava ogni volta che mi passava davanti finalmente si fermò mi fissò con sguardo indagatore io risi allettante come non ho mai riso in vita mia lui allungò le braccia verso di me ora volevo fuggire ma non mi riuscì ed egli cadde accanto a me sul prato e l'attacque Fridolin aveva la gola asciutta nell'oscurità della stanza notò che Albertin si teneva il viso come nascosto tra le mani uno strano sogno disse è già finito e poiché lei fece cenno di no allora continua non è così semplice riprese Albertin certe cose non si possono quasi esprimere a parole dunque avevo l'impressione di vivere una serie innumerevole di giorni e notti non esisteva né tempo né spazio non mi trovavo più nella radura chiusa dal bosco e dalla roccia ma in una pianura ampia e sconfinata ricoperta di fiori variopinti che si perdeva da tutti i lati all'orizzonte intanto da molto tempo strano questo da molto tempo non ero più sola con quell'uomo sul prato ma non potrei dire se oltre me ci fossero ancora tre di essi o mille coppie se le abbia viste o no se sia stata di quell'uomo soltanto o anche di altri tuttavia come quel precedente sentimento di orrore e vergogna superava di molto tutto ciò che ci si può immaginare da svegli così non c'è sicuramente nulla nella nostra vita cosciente che possa ugualiare la serenità la libertà la felicità che ho provato in questo sogno eppure non ti dimenticai neppure un attimo sì ti vedevo vidi quando fosti catturato da soldati mi pare c'erano anche dei preti qualcuno un uomo gigantesco ti legò le mani sapevo che dovevi essere giustiziato lo sapevo senza provare pietà né orrore con assoluto distacco ti condussero in un cortile una specie di cortile di castello adesso stavi là con le mani legate dietro la schiena e nudo e come io vedevo te sebbene mi trovassi altrove così tu vedevi me e anche l'uomo che mi teneva tra le braccia e tutte le altre coppie quella infinita marea di nudità che mi spumeggiava intorno e di cui io e l'uomo che mi teneva abbracciata eravamo per così dire solo un'onda mentre dunque eri nel cortile del castello ad un'alta finestra ad arco fra tendina rosse comparve una giovane donna con un diadema sul capo e un mantello di porpora era la principessa di quel paese ti lanciò uno sguardo severo e interrogativo eri solo gli altri per quanto fossero in molti si tenevano in disparte addossati ai muri sentivo un mormorio un borbottio insidioso e gravido di pericoli in quel momento la principessa si sporse dal davanzale tutti tacquero e la principessa ti fece un cenno come a ingiungerti di salire da lei sapevo che era decisa a graziarti ma tu non notasti il suo sguardo e non volesti notarlo a un tratto sempre con le mani legate ma avvolto in un mantello nero ti trovasti dinanzi a lei non in una sala ma sospeso per così dire in aria la principessa reggeva in mano una pergamena la tua condanna a morte in cui erano anche annotate le tue colpe e i motivi della condanna ti chiese non udivo le parole e tuttavia lo sapevo sei ridisposto a diventare il suo amante nel quel caso ti veniva rimessa la condanna a morte scuotesti il capo in segno di diniego nel canto mio non mi meravigliai la tua era una reazione perfettamente normale né poteva essere altrimenti dal momento che dovevi restarmi fedele per l'eternità e a costo di ogni pericolo allora la principessa si strinse nelle spalle fece un cenno nel vuoto e ad un tratto ti trovasti in un sotterraneo fruste calavano sibilando su di te ma non vedevo coloro che le agitavano il sangue scorreva come in ruscelli dal tuo corpo lo vedevo scorrere ero consapevole della mia crudeltà senza meravigliarmene poi si avvicinò a te la principessa i capelli sciolti le ricadevano sul corpo nudo reggeva in mano il suo diadema e te lo offriva sapevo che era la ragazza della spiaggia danese che avevi visto una mattina nuda sul terrazzino di un capanno non pronunciò parola ma la sua presenza addirittura il suo silenzio miravano a sapere se volevi diventare suo marito e il principe del paese e poiché rifiutasti di nuovo improvvisamente sparì ma io vedevo che stavano rizzando una croce per te non nel cortile del castello no sull'immenso prato cosparso di fiori dove giacevo tra le braccia di un amante fra tutte le altre coppie di innamorati ti vedevo camminare solo per strade antiche senza alcuna sorveglianza ma sapevo che la tua via era tracciata e ogni fuga impossibile ora salivi per il sentiero del bosco ti attendevo tesa ma senza alcuna compassione il tuo corpo era coperto di striature che però non sanguinavano più salivi sempre più in alto il sentiero si ampliava il bosco si ritirava da entrambi i lati e adesso ti trovavi ai margini del prato a una distanza immensa inconcepibile tuttavia mi salutasti sorridendo con gli occhi come a significarmi che avevi esaudito il mio desiderio e mi portavi tutto ciò di cui avevo bisogno vestiti scarpe gioielli io però trovavo il tuo comportamento oltremodo stolto e insensato ed ero tentata di dileggiarti di riderti in faccia proprio perché per essermi fedele avevi rifiutato la mano di una principessa sopportato tortura ed ora stavi barcollando lassù per patire una terribile morte ti corsi incontro anche tu camminavi sempre più in fretta cominciai a sollevarmi in aria anche tu volavi ma improvvisamente non ci vedemmo più lo sapevo ci eravamo perduti allora desiderai che almeno sentissi le mie risa mentre ti crocifiggevano e così scoppiai a ridere con tutto il vigore e la forza di cui ero capace con questa risa mi sono svegliata Fridolin tacque e rimase immobile anche egli non si mosse e non parlò qualsiasi parola sarebbe sembrata in quel momento insulsa mendace e vile quanto più lei procedeva nel suo racconto tanto più ridicole e insignificanti gli apparivano le proprie avventure almeno sino al punto in cui erano giunte e giurò di portarle a termine tutte di raccontargliele poi fedelmente e vendicarsi così di quella donna infedele crudele e traditrice che aveva rivelato nel sogno la sua reale natura e che in quel momento credette di odiare più profondamente di quanto l'avesse mai amata allora si accorse di stringere ancora fra le mani le dita di lei e sebbene fosse deciso a odiare quella donna sentiva per le sue dita sottili fredde e così familiari una tenerezza immutata divenuta soltanto un po' dolorosa e istintivamente quasi contro la sua volontà prima di sciogliere dalle sue quella mano familiare la sfiorò dolcemente con le labbra Albertino non apriva ancora gli occhi Fridolin ebbe l'impressione che ella sorridesse con un'espressione di felicità trasfigurata e innocente e provò un inspiegabile desiderio di chinarsi su di lei e baciarla sulla fronte pallida ma si dominò sentendo che quel suo stato d'animo derivava solo dalla ben comprensibile stanchezza dopo gli sconvolgenti avvenimenti delle ultime ore nell'ingannevole atmosfera della stanza matrimoniale quella stanchezza si era tramutata in struggente tenerezza tuttavia comunque si sentisse in quel momento qualunque decisione avesse preso nel corso delle prossime ore l'urgente imperativo del momento era rifugiarsi almeno per un certo tempo nel sonno e nell'oblio anche la notte successiva alla morte della madre aveva dormito aveva potuto dormire profondamente senza sogni perché mai non doveva riuscirgli ora si stese vicino ad Albertin che sembrò già essersi assopita una spada tra noi pensò di nuovo e poi sdraiati fianco a fianco come nemici mortali ma erano solo parole fu svegliato alle sette del mattino dalla cameriera che bussò piano alla porta gettò una rapida occhiata ad Albertin talvolta non sempre quei colpetti svegliavano anche lei oggi dormiva ancora immobile troppo immobile fridolin si preparò in fretta prima di uscire volle vedere la figlia dormiva tranquillamente nel suo lettino bianco le mani serrate a pugno come proprio dei bambini la baciò sulla fronte in punta di piedi entrò di nuovo in camera da letto dove Albertin riposava immobile come poco prima poi uscì portava con sé ben riposti nella sua borsa nera da medico il saio e il cappello da pellegrino aveva preparato con cura addirittura con una certa pedanteria il programma della giornata prima di tutto doveva passare a visitare proprio vicino a casa un giovane avvocato gravemente ammalato fece una visita scrupolosa trovò il malato alquanto migliorato se ne rallegrò sinceramente e scrisse su una vecchia ricetta il consueto Repeteatur poi andò subito a cercare il locale nel cui scantinato Nachtigall aveva suonato il piano la sera precedente era ancora chiuso tuttavia la cassiera del caffè sapeva che Nachtigall abitava in un piccolo hotel della Leopoldstadt un quarto d'ora dopo la carrozza di Fridolin si fermava davanti a una miserabile locanda nell'atrio c'era odore di letti sfatti di lardo rancido e surrogato di caffè un portiere dall'aspetto equivoco gli occhi scaltri cerchiati e rossi abituato ad essere interrogato dalla polizia gli fornì volentieri delle informazioni il signor Nachtigall era rientrato la mattina alle 5 in compagnia di due signori che si erano resi quasi irriconoscibili forse intenzionalmente sollevandosi le sciarpe sul viso mentre Nachtigall era salito nella sua stanza quei signori avevano pagato il suo conto del mese passato poiché dopo mezz'ora egli non era ancora ricomparso uno dei due signori era andato personalmente a prenderlo dopodiché erano partiti tutti per la stazione nord Nachtigall era apparso molto eccitato e poi perché non dire tutta la verità un signore che ispirava tanta fiducia aveva tentato di dare di nascosto una lettera al portiere ma i due signori l'avevano subito impedito le lettere recapitate in seguito al signor Nachtigall avevano aggiunto sarebbero state ritirate da una persona a ciò autorizzata Fritolin si congedò nell'uscire fu contento di avere con sé la sua borsa da medico almeno non avrebbero preso per un frequentatore di quell'hotel ma per un funzionario quanto a Nachtigall per il momento non c'era dunque nulla da fare erano stati molto prudenti e avevano tutte le ragioni di esserlo si recò allora al magazzino dei costumi venne ad aprire proprio il signor Gibiser le ha portato il costume disse Fritolin e desiderò sapere quanto le devo Gibiser chiese una somma modesta incassò il denaro lo registrò in un grosso libro contabile e ancora seduto dietro la scrivania del suo ufficio sollevò piuttosto meravigliato lo sguardo verso Fridolin che non accennava ad andarsene sono qui fra l'altro disse Fridolin col tono di un giudice istruttore per scambiare qualche parola con lei in merito a sua figlia le pinne del naso di Gibiser si contrassero leggermente disagio beffa ostizza non era facile stabilirlo come dice signore domandò in tono apparimenti indefinibile ieri ha detto continuò Fridolin una mano appoggiata con le dita aperte sulla scrivania che sua figlia non era del tutto sana di mente la situazione in cui l'abbiamo sorpresa lasciava credere che fosse realmente così poiché il caso mi ha fatto partecipare o almeno assistere a quella scena singolare e consiglierei di consultare un medico signor Gibiser Gibiser rigirando tra le mani una penna lunga oltremisura squadrò Fridolin con uno sguardo insolente e il signor dottore avrebbe forse anche la bontà di prenderla in cura la prego di non attribuirmi parole che non ho pronunciato rispose Fridolin con voce tagliente ma un po' rauca in quell'attimo la porta che dava sulle stanze interne si aprì comparve un giovane con sopravvito aperto sul frac Fridolin capì subito che non poteva essere altri che uno dei giudici della VMA della notte scorsa non c'era dubbio veniva dalla stanza di Pierret sembrò sorpreso nel vedere Fridolin ma si dominò subito salutò fuggevolmente Gibiser con un cenno della mano poi si accese una sigaretta con un accendino che si trovava sulla scrivania e uscì ah è così osservò Fridolin atteggiando le labbra a una smorfia di disprezzo mentre sentiva un sapore amaro sulla lingua come dice signore chiese Gibiser con assoluta indifferenza dunque ci ha rinunziato signor Gibiser e con aria di superiorità fece scivolare lo sguardo dalla porta d'ingresso a quella da cui era uscito il giudice della VMA rinunciato ad avvertire la polizia ci si è messi d'accordo in un altro modo dottore osservò Gibiser e si alzò come se fosse terminata un'udienza Fridolin si apprestò ad uscire Gibiser aprì premurosamente la porta e disse senza scomporsi se il dottore dovesse avere ancora bisogno non è necessario che si tratti proprio di un abito fratesco Fridolin uscì sbattendo la porta la faccenda è conclusa pensò con un senso di rabbia che gli sembrò anche eccessivo scese velocemente le scale andò senza particolare fretta al policlinico e telefonò anzitutto a casa per sapere se era stato chiamato da qualche paziente se fosse giunto apposta se ci fossero comunque novità la cameriera aveva appena risposto a quelle domande che la stessa Albertin andò al telefono e lo salutò ripete tutto ciò che la cameriera aveva già detto poi raccontò disinvolta di essersi alzata solo in quel momento e di voler fare colazione insieme con la bambina dalle un bacio da parte mia disse Fridolin e buon appetito gli aveva fatto piacere sentire la sua voce e proprio perciò aveva subito interrotto la conversazione in realtà voleva ancora chiedere ad Albertin cosa avesse intenzione di fare nella mattina ma che gliene importava nel profondo dell'animo aveva chiuso con lei qualunque piega avesse preso la loro vita la bionda infermiera lo aiutò a togliersi la giacca gli diede il camice bianco e gli sorrise un poco come soleva fare con tutti ci si occupasse o meno di lei pochi minuti dopo era in corsia il primario aveva fatto sapere che era dovuto partire improvvisamente a causa di un consulto gli assistenti potevano quindi procedere alle visite senza di lui Fridolin si sentì quasi felice quando seguito dagli studenti passò di letto in letto visitò scrisse ricette discusse problemi specialistici con medici ausiliari e infermiere se erano novità di ogni specie il garzone di fabbro Carl Rödel era morto durante la notte autopsia pomeriggio alle 4 e mezzo nella corsia delle donne si era liberato a un letto ora di nuovo occupato la donna del letto 17 aveva dovuto trasferirla al reparto chirurgico ogni tanto parlavano anche di problemi del personale la nuova nomina del direttore del reparto oculistico si sarebbe dovuta decidere dopo domani Hügelmann allora professore a Marburg quattro anni prima ancora secondo assistente a Stelvag aveva le migliori possibilità di successo carriera rapida pensò Fridolin non mi prenderanno mai in considerazione per la direzione di un reparto anche perché non ho la libera docenza troppo tardi perché poi si trattava solo di ricominciare il lavoro scientifico o riprendere con maggior serietà alcune ricerche già iniziate l'esercizio della professione privata gli lasciava comunque sempre abbastanza tempo pregò il dottor Fuchs Stahler di occuparsi dell'ambulatorio e dovette confessarsi che avrebbe preferito restare là anziché andare sul Galitzinberg tuttavia era necessario farlo non si sentiva solo obbligato di fronte a se stesso a indagare ulteriormente sulla faccenda c'erano ancora da spiegare molte altre cose oggi e così decise per ogni evenienza di affidare al dottor Fuchs Stahler anche le visite serali nel giovane dell'ultimo letto col sospetto catarro apicale gli sorrise era la stessa che recentemente durante una visita aveva premuto così confidenzialmente il seno contro la sua guancia Fridolin ricambiò di malumore il suo sguardo e si allontanò corrugando la fronte una vale l'altra pensò con amarezza e Albertin è come tutte loro è la peggiore di tutte mi dividerò da lei non potrà mai più essere come una volta per le scale scambiò ancora qualche parola con un collega del reparto chirurgico allora chi aveva in realtà la donna che era stata trasferita da loro durante la notte per conto suo non era molto convinto della necessità di un'operazione comunque gli avrebbero fatto avere il risultato dell'esame istologico naturalmente collega all'angolo prese una carrozza consultò il suo taccuino ridì con la commedia davanti al cocchiere come se dovesse decidersi solo allora andiamo a Ottakring disse poi la strada del Galizimberg e dirò io dove fermare in carrozza fu di nuovo preso da una eccitazione tra dolorosa e nostalgica si sentiva quasi colpevole di non avere più pensato alla sua bella soccorritrice nelle ultime ore sarebbe riuscito a trovare la casa ma non poteva essere così difficile il problema era solo che fare poi denuncia alla polizia una simile decisione poteva avere spiacevoli conseguenze proprio per la donna che si era sacrificata per lui o almeno si era dichiarata pronta a farlo o doveva rivolgersi a un detective privato questa soluzione gli sembrò abbastanza di cattivo gusto e non del tutto degno di lui ma che altro gli restava da fare non aveva né tempo né forse il talento per condurre bene le indagini una società segreta ebbene sì ad ogni modo qualcosa di segreto ma si conoscevano tra loro aristocratici o forse addirittura membri della corte pensò a certi arciduchi dai quali c'era ben da aspettarsi scherzi del genere e le donne probabilmente raccolte nelle case di piacere tuttavia la cosa non era affatto sicura comunque merce scelta ma la donna che si era sacrificata per lui perché poi voleva continuare a credere che si era trattato veramente di un sacrificio una commedia si capisce era stata tutta una commedia in fondo doveva essere contento di essersela cavata così a buon mercato ma aveva conservato il controllo di sé i cavalieri avevano certo notato che non era uno qualunque e anche lei se n'era comunque accorta forse preferiva lui a tutti quegli arciduchi o gente simile alla fine del Libharzal dove la strada cominciava decisamente a salire smontò e per prudenza rimandò indietro la carrozza il cielo era azzurro pallido e percorso da nuvolette bianche il sole caldo come in primavera guardò indietro non si vedeva nulla di sospetto nessuna carrozza nessuno in giro prese a salire lentamente il cappotto gli cominciava a pesare se lo tolse e se lo gettò sulle spalle giunse al posto dove a destra doveva staccarsi la via laterale in cui si trovava la casa misteriosa non poteva sbagliare era in discesa ma non certo così rapida come gli era sembrata di notte percorrendola in carrozza una via tranquilla in un giardinetto davanti a una casa c'erano dei rosai avvolti accuratamente in protezione di paglia in quello successivo c'era una carrozzina un bambino tutto vestito di lana azzurra correva su e giù dalla finestra del pian terreno una giovane donna guardava sorridendo seguiva poi un terreno su cui non si era costruito un giardino recintato e incolto una piccola villa un prato e infine non c'era dubbio quella lì era la casa che cercava non sembrava affatto grande o sfarzuosa era una villa a un piano un modesto stile impero e si vedeva che era stata rinnovata da non molto tempo le persiane verdi erano tutte chiuse niente faceva pensare che la villa potesse essere abitata Fridolin si guardò intorno nella strada non si vedeva nessuno solo più giù camminavano allontanandosi due ragazzi coi libri sotto braccio si trovava davanti alla porta del giardino che fare dunque ritornare semplicemente indietro l'idea gli sembrò addirittura ridicola cercò il campanello elettrico e se gli aprivano cosa doveva dire ma molto semplice se era possibile prendere in affitto per l'estate quella graziosa villa intanto la porta di casa si era già aperta e ne era uscito un vecchio servitore in semplice livrea da mattina che percorse lentamente lo stretto viottolo fino al cancello del giardino aveva in mano una lettera e la porse senza parlare attraverso le sbarre a Fridolin che sentiva il cuore battergli con violenza è per me? chiese esitante il servitore annui si voltò si allontanò e la porta della villa si chiuse alle sue spalle che significa questo? si domandò Fridolin una lettera della donna o forse è proprio lei la proprietaria della casa ritornò indietro in fretta solo allora si accorse che sulla busta c'era scritto a caratteri dritti e maestosi il suo nome giunto all'angolo aprì la lettera spiegò il foglio e l'esse abbandoni le sue indagini che sono del tutto inutili e consideri queste parole come un secondo avvertimento speriamo nel suo interesse che non ne siano necessari altri abbassò il foglio il messaggio lo deludeva sotto ogni riguardo in ogni caso era diverso da quello che stoltamente si era aspettato comunque il tono era stranamente riservato per nulla mordace lasciava capire che le persone che avevano inviato quel messaggio non si sentivano affatto sicure secondo avvertimento come mai? ah sì la notte scorsa aveva ricevuto il primo ma perché secondo e non ultimo volevano di nuovo mettere alla prova il suo coraggio doveva superare un esame e dove avevano appreso il suo nome ma proprio di questo non c'era da meravigliarsi probabilmente avevano indotto Nachtigall a rivelarlo e inoltre sorrise involontariamente della sua distrazione nella fodera della pelliccia era cucito il suo monogramma e l'indirizzo esatto ma anche se le indagini restavano al punto di prima quella lettera lo aveva in complesso calmato senza che potesse dirne la ragione in particolare era convinto che la donna per la cui sorte aveva trepidato era ancora viva e che dipendeva solo da lui il ritrovarla se avesse agito con prudenza e astuzia quando giunse a casa abbastanza stanco ma con l'animo stranamente sollevato il che gli sembrò peraltro illusorio Albertin e la bambina avevano già pranzato ma gli fecero compagnia mentre mangiava colei che la notte l'aveva fatto tranquillamente crocifiggere gli sedeva di fronte lo sguardo angelico l'aspetto materno e da donna di casa ma Fridolin con sua stessa meraviglia non la odiava affatto ma giò con appetito si sentiva un po' eccitato ma in realtà era di buon umore e come era solito fare parlò molto animatamente delle piccole vicende professionali di quel giorno in particolare dei problemi del personale medico di cui soleva sempre informare dettagliatamente Albertin riferì che la nomina di Hügelmann era quasi sicura e parlò del suo proposito di riprendere con maggior lena il lavoro scientifico Albertin Fridolin conosceva bene quegli stati d'animo sapeva che non solevano durare troppo a lungo e un lieve sorriso tradì i suoi dubbi Fridolin si infervorava e Albertin gli passò delicatamente la mano sui capelli come per calmarlo ora egli trasalì leggermente e si rivolse alla bambina sottraendo così la fronte ad altre sgradevoli carezze prese in braccio la piccola e voleva farla dondolare sulle ginocchia quando la domestica annunciò che c'erano già alcuni pazienti che attendevano Fridolin si alzò con un senso di liberazione disse ancora di sfuggita che Albertin e la bambina potevano utilizzare quel bel pomeriggio di sole per andare a passeggio ed entrò nello studio nelle due ore che seguirono Fridolin si trovò di fronte sei vecchi pazienti e due nuovi si mostrò molto interessato ai singoli casi visitò prese appunti prescrisse medicina e fu contento di sentirsi così meravigliosamente fresco e sveglio dopo le due ultime notti quasi insonni al termine passò come era sua abitudine a vedere ancora una volta la moglie e la bambina e notò non senza soddisfazione che Albertin aveva appena ricevuto la visita della madre e la piccola imparava il francese con la governante soltanto per le scale si rese conto di nuovo che tutto quell'ordine quell'armonia quella sicurezza della sua esistenza non erano che apparenza e menzogna sebbene avesse disdetto le visite pomeridiane sentì una irresistibile attrazione a tornare in ospedale c'erano due casi particolarmente interessanti per un lavoro scientifico cui progettava di dedicarsi e per un certo tempo se ne occupò più minuziosamente di quanto avesse fatto finora poi visitò ancora un paziente in centro e così si erano fatte le sette di sera quando si trovò davanti alla vecchia casa nella Schreifogelskasse solo quando sollevò lo sguardo verso la finestra di Marianne la sua immagine che nel frattempo si era completamente sbiadita si ridestò con maggiore chiarezza di ogni altra ecco ora non poteva fallire qui poteva iniziare la sua vendetta senza sforzo eccessivo qui non c'erano difficoltà né pericoli e l'idea che forse avrebbe fatto indietraggiare altri che lei tradisse il fidanzato per lui era quasi uno stimolo in più si tradire ingannare mentire fare la commedia dovunque davanti a Marianne davanti ad Albertin davanti al buon dottor Rüdiger davanti al mondo intero condurre una specie di doppia vita essere il medico valente fidato dal promettente a venire il buon marito e padre di famiglia e allo stesso tempo un libertino un seduttore un cinico che giocava con la gente con uomini e donne a seconda dell'estro tutto ciò gli sembrò in quel momento molto attraente ma la cosa più attraente era il pensiero che un bel giorno quando Albertin si sarebbe creduto ormai protetta dalla sicurezza di una vita domestica e coniugale senza scosse le avrebbe rivelato con un freddo sorriso tutte le sue colpe ripagandola così dell'amarezza e del disonore che gli aveva cagionato col suo sogno nell'ingresso si trovò di fronte il dottor Rüdiger che gli diede la mano con ingenua cordialità come sta la signora Marianne chiese Fridolin si è calmata un po' il dottor Rüdiger si strinse nelle spalle era già da tempo preparata alla fine dottore solo quando oggi verso mezzogiorno hanno portato via la salma ah è già avvenuto il dottor Rüdiger annui domani pomeriggio alle tre avranno luogo i funerali Fridolin guardava dinanzi a sé ci saranno naturalmente i parenti con la signorina Marianne non più rispose il dottor Rüdiger ora è sola Marianne sarà certo contenta di rivederla dottore domani mia madre ed io la accompagneremo a Middling e ha uno sguardo cortesemente interrogativo di Fridolin i miei genitori possiedono lì una casetta arrivederci dottore ho ancora diverse cose da sbrigare che cosa non c'è da fare in un caso simile spero di incontrarla ancora qui al mio ritorno e così dicendo uscì dal portone sulla strada Fridolin esitò un attimo poi salì lentamente le scale suonò il campanello venne ad aprirgli proprio Marianne era vestita di nero aveva al collo una collana di giaietto nera che non le aveva mai visto arrossì leggermente mi fa tendere a lungo e la disse con un debole sorriso mi scusi signorina Marianne oggi ho avuto una giornata particolarmente faticosa la seguì passando attraverso la stanza del defunto il cui letto era ormai vuoto nella camera accanto dove il giovane prima aveva scritto il certificato di morte del consigliere sotto il quadro dell'ufficio in uniforme bianca sulla scrivania ardeva un piccolo lume sicché la stanza era in penombra Marianne lo fece accomodare sul divano di cuoio nero mentre lei gli si sedette di fronte dietro la scrivania poco fa entrando ho incontrato il dottor Rediger comunque già da domani andrà in campagna Marianne lo guardava come meravigliandosi del tono freddo delle sue domande e chino la testa quando egli con voce quasi dura continuò trovo la decisione molto assennata e illustrò freddamente i vantaggi che le avrebbero procurato l'aria buona e il nuovo ambiente lei era seduta immobile le guance rigate di lacrime Fridolin la guardava senza compassione piuttosto con impazienza e il pensiero che forse un attimo dopo potesse stare di nuovo ai suoi piedi e ripetergli la confessione di ieri lo riempiva di paura e poiché la taceva si alzò bruscamente mi spiace molto signorino Marian ma tirò fuori l'orologio Marian sollevò la testa guardò Fridolin mentre le lacrime continuavano a scorrere lui le avrebbe volentieri detto una parola di incoraggiamento ma non trovò la forza di farlo rimarrà alcuni giorni in campagna cominciò forzatamente spero che mi farà avere sue notizie del resto il dottor Riediger mi ha detto che presto avranno luogo le nozze mi permetta di farle fin da ora gli auguri Marian non si mosse come se non si fosse affatto accorta dei suoi auguri del suo commiato Fridolin le diede la mano che lei non strinse e quasi in tono di rimprovero ripetè dunque spero tanto che mi darà notizie della sua salute arrivederci signorina Marian lei stava là come impietrita Fridolin uscì si fermò un secondo sulla porta quasi a concederle l'ultima possibilità di richiamarlo ma lei sembrò piuttosto volgere il capo dall'altra parte allora chiuse la porta dietro di sé una volta sul pianerotto lo sentì qualcosa come un rimorso per un attimo pensò di ritornare indietro ma si rese conto che una decisione simile sarebbe stata oltretutto molto ridicola ma che fare ora andare a casa e dove se no oggi non poteva ormai fare più nulla e domani cosa e come si sentiva impacciato incerto ogni cosa gli si vanificava tra le mani tutto diventava irreale persino la casa sua moglie la sua bambina la sua professione sì persino lui stesso mentre continuava a camminare meccanicamente nella sera coi suoi pensieri senza meta l'orologio della torre del municipio scoccò le sette e mezzo d'altronde non importava che ora fosse il tempo gli era completamente indifferente non provava interesse per nulla e per nessuno sentì una leggera compassione per se stesso molto fuggevolmente non proprio come un proposito gli venne l'idea di recarsi a una qualsiasi stazione partire non importava per dove sparire per tutti coloro che lo avevano conosciuto ricomparire in qualche luogo all'estero e incominciare una vita nuova sotto sfoglie diverse si ricordò di certi strani casi clinici che conosceva dai libri di psichiatria delle cosiddette doppie esistenze un uomo spariva improvvisamente dalla vita normale veniva dato per disperso ritornava dopo mesi o dopo anni senza ricordare dove era stato tutto quel tempo finché in seguito qualcuno con cui si era incontrato da qualche parte in un paese lontano lo riconosceva ma lui non aveva più memoria di nulla casi simili si verificavano certo raramente ma erano comunque provati e in forma più lieve a più d'uno doveva capitare la stessa cosa per esempio dopo aver fatto un sogno certo ci si ricordava ma sicuramente c'erano anche dei sogni che si dimenticavano del tutto dei quali non restava più traccia tranne un certo strano stato d'animo uno stordimento misterioso oppure si ricordavano solo più tardi molto più tardi e non si sapeva più se si era fatta un'esperienza reale o soltanto sognato soltanto soltanto e mentre continuava a camminare prendendo involontariamente la via di casa capitò nelle vicinanze di quella strada buia e alquanto malfamata in cui poco meno di ventiquattro ore prima aveva seguito una donna perduta nella sua abitazione misera ma accogliente perduta la donna malfamata la strada come è vero che si cede sempre alla seduzione delle parole e si giudicano e si denominano strade destini uomini per pura forza d'abitudine quella ragazza non era in fondo la più graziosa addirittura la più pura fra tutte le altre che le strane combinazioni della notte scorsa gli avevano fatto incontrare provò una certa commozione pensando a lei e in quel momento si ricordò anche del proposito di ieri con decisione entrò nel primo negozio e comprò ogni specie di leccornie e mentre camminava col pacchetto in mano lungo i muri delle case si sentiva addirittura felice convinto di accingersi a compiere un'azione per lo meno ragionevole forse persino degna di lode comunque si alzò il bavero quando entrò sul portone salì in fretta le scale il campanello dell'appartamento mandò un suono stridulo e spiacevole e quando apprese da una donna dall'aspetto equivoco che la signora Mizi non era in casa tirò un sospiro di sollievo ma prima ancora che ella potesse prendere in consegna il pacchetto per l'assente entrò nell'anticamera un'altra donna ancora giovane e non brutta avvolta in una specie di accappatoio da bagno e disse chi cerca il signore la signorina Mizi quella non tornerà tanto presto a casa la vecchia le fece cenno di tacere ma Fridolin quasi desiderasse urgentemente una conferma quanto aveva già in certo modo intuito osservò semplicemente è all'ospedale vero? beh se il signore lo sa già ma noi siamo sane grazie a Dio esclamò allegramente e si accostò a Fridolin con le labbra semiaperte piegando sfacciatamente indietro il suo corpo procase sicché l'accappatoio si aprì Fridolin disse con distacco passavo di qui e sono salito per portare qualcosa a Mizi e a un tratto gli sembrò di essere uno studente liceale poi chiese con tono diverso concretamente in quale reparto si trova la ragazza fece il nome di un professore nella cui clinica Fridolin era stato assistente alcuni anni prima e poi aggiunse bonariamente dia pure a me il pacchetto glielo porterò domani si fidi di me non toccherò nulla le darò anche i suoi saluti e le riferirò che lei non l'ha tradita nello stesso tempo però gli si fece più vicino e lo guardò ridendo ma poiché egli si tirò leggermente indietro desistette subito e aggiunse in tono consolante il dottore ha detto che fra sei al più tardi otto settimane sarà di nuovo a casa quando Fridolin uscì in strada sentì un nodo alla gola ma sapeva che non si trattava tanto di commozione quanto di un graduale venir meno dei suoi nervi prese intenzionalmente un'andatura più veloce e animata di quanto si confacesse al suo stato d'animo doveva forse considerare quell'avventura un ulteriore un ultimo segno che tutto sarebbe fallito perché essere sfuggito a un così grave pericolo poteva comunque anche ritenersi un buon segno ma era proprio quella la cosa più importante evitare dei pericoli chissà quanti altri pericoli lo aspettavano ancora non pensava affatto di abbandonare le ricerche della meravigliosa donna della notte scorsa certo adesso non c'era più tempo e poi bisognava riflettere bene sul modo di proseguire le indagini sì se avesse avuto qualcuno con cui consigliarsi ma non conosceva nessuno che avrebbe messo volentieri a parte delle sue avventure della notte passata da anni non era più veramente in confidenza con nessuno tranne che con sua moglie e con lei poteva difficilmente consigliarsi in quel caso in quello come in qualunque altro che che la si mettesse come si voleva la notte scorsa essa l'aveva fatto crocifiggere adesso capì perché i suoi passi invece che in direzione di casa lo conducevano istintivamente sempre più lontano dalla parte opposta in quel momento non voleva non poteva andare da Albertin la cosa più logica era cenare fuori da qualche parte poi tornare in ospedale a riguardarsi i suoi due casi ed evitare ad ogni costo di essere a casa a casa prima di poter essere sicuro di trovare Albertin già addormentata entrò in un caffè uno di quelli distinti e tranquilli nei pressi del municipio telefonò a casa che non lo aspettassero per la cena e riattaccò subito per evitare che anche Albertin potesse andare al telefono poi si sedette vicino a una finestra e chiuse la tendina in un angolo distante prendeva posto in quel momento un signore in soprabito scuro anche per il resto vestito in modo molto discreto Fridolin si ricordò di avere già visto in qualche posto nel corso della giornata quella fisionomia naturalmente poteva anche essere una semplice coincidenza prese un giornale della sera e lesse qua e là qualche rigo così come aveva fatto ieri notte in un altro caffè notizie su avvenimenti politici teatro arte letteratura su incidenti piccoli e grandi di ogni genere in una città dell'america il cui nome non aveva mai sentito si era incendiato un teatro lo spazzacamino Peter Corand si era gettato dalla finestra a Fridolin sembrò in qualche modo strano che anche gli spazzacamini talvolta si suicidassero e si domandò involontariamente se si fosse prima lavato per bene o si fosse precipitato nel vuoto così come era tutto nero in un signorile albergo del centro la mattina presto si era avvelenata una donna una signora che alcuni giorni prima aveva preso alloggio sotto il nome di Baronessa D una signora di straordinaria bellezza Fridolin si sentì subito coinvolto e pieno di presentimenti la signora era rientrata alle 4 del mattino in compagnia di due uomini che si erano congedati da lei sul portone le 4 proprio l'ora in cui anche egli era tornato a casa e verso mezzogiorno era stata trovata a letto priva di sensi così continuava il giornale con i sintomi di un grave avvelenamento una giovane signora di straordinaria bellezza in fondo c'erano molte giovani signore di eccezionale bellezza non c'era nessun motivo di ritenere che la Baronessa D o meglio la signora che aveva preso alloggio nell'hotel con il nome di Baronessa D e una certa altra fossero la stessa persona eppure gli batteva il cuore e il foglio gli tremava tra le mani in un signorino albergo cittadino in quale perché era tutto così misterioso così riservato abbassò il giornale e vide che contemporaneamente il signore nel lontano angolo di fronte sollevava a sua volta davanti il viso un giornale un grande giornale illustrato come una tenda anche Fridolin riprese subito in mano il suo e in quel momento si rese conto che era impossibile che la Baronessa D potesse essere un'altra persona diversa dalla donna della notte scorsa in un albergo signorile del centro non ce ne erano poi tanti che potevano essere presi in considerazione per una Baronessa D e ora qualunque cosa potesse succedere bisognava seguire quella trazza chiamò il cameriere pagò e uscì sulla porta si voltò di nuovo a guardare quel signore sospetto ma l'altro era stranamente già scomparso grave avvelenamento ma viveva nel momento in cui l'avevano trovata viveva ancora e infine non vi era alcun motivo di ritenere che non fosse salva comunque che vivesse o fosse già morta l'avrebbe ritrovata e l'avrebbe vista in ogni caso morta o viva l'avrebbe vista nessuno al mondo poteva impedirgli di vedere la donna che per causa sua sì per lui aveva affrontato la morte lui era colpevole della sua morte lui solo se era lei sì era lei tornata a casa il mattino alle 4 in compagnia di due signori probabilmente gli stessi che qualche ora dopo avevano accompagnato Nachtigall alla stazione non avevano una coscienza troppo pulita quei signori si trovava nella grande ampia piazza di fronte al municipio e volgeva lo sguardo da tutte le parti non scorse che poche persone il signore sospetto del caffè non era tra loro e anche se fosse così quei signori avevano paura lui era in una posizione di forza Fridolin riprese il suo passo veloce al ring noleggiò una carrozza si fece prima condurre all'hotel Bristol e si informò dal portiere come se fosse autorizzato o a ciò delegato se la baronessa dì che come era noto si era avvelenata la mattina aveva abitato in quell'hotel il portiere non sembrò meravigliarsi affatto pensò che Fridolin fosse un funzionario di polizia o un altro pubblico ufficiale comunque rispose cortesemente che la triste vicenda non si era verificata lì ma nell'hotel Herzog Carl Fridolin si recò subito l'hotel indicato e apprese che la baronessa dì era stata trasportata al policlinico immediatamente dopo il suo ritrovamento Fridolin si informò su come avevano scoperto il tentativo di omicidio cosa gli aveva spinti a darsi pensiero già verso mezzogiorno di una signora che era rientrata solo alle 4 del mattino ma molto semplice due signori dunque ancora quei due signori avevano chiesto di lei alle 11 poiché la signora non aveva risposto a ripetute chiamate telefoniche la cameriera aveva bussato alla porta poiché anche quel tentativo era risultato vano e la porta era chiusa dall'interno si erano visti costretti ad abbatterla e così avevano trovato la baronessa sul letto priva di sensi avevano subito avvertito il pronto soccorso e la polizia e i due signori chiese Fridolin tagliente e gli sembrò di essere un agente in borghese sì i due signori erano nel frattempo spariti senza lasciar traccia il che dava naturalmente da pensare del resto non poteva assolutamente essersi trattato di una baronessa Dubievski nome con cui la signora era stata registrata nell'hotel era la prima volta che scendeva in quell'albergo e non esisteva affatto una famiglia di quel nome in ogni caso quello non era il nome di una famiglia nobile Fridolin ringraziò per le informazioni e si allontanò piuttosto in fretta poiché uno dei direttori dell'hotel avvicinandosi in quel momento cominciava a squadrarlo con importuna curiosità salì di nuovo in carrozza e si fece condurre all'ospedale pochi minuti dopo all'ufficio accettazione apprese non solo che la presunta baronessa Dubievski era stata ricoverata nella seconda clinica interna ma anche che nonostante tutte le cure dei medici era morta senza aver ripreso conoscenza alle 5 del pomeriggio Fridolin prese fiato ma fu solo una sua impressione poiché in realtà gli era sfuggito un profondo sospiro l'impiegato di servizio lo guardò con un certo stupore Fridolin si riprese subito si congedò cortesemente e un minuto dopo era già all'aperto il giardino dell'ospedale era quasi deserto in un viale vicino un'infermiera in camice a strisce bianche azzurra e cuffia bianca passava in quel momento sotto un lampione morta disse Fridolin fra sé se è lei e se non è lei se vive ancora come potrà trovarla dove fosse in quel momento il cadavere della sconosciuta era facile indovinarlo poiché era morta solo poche ore prima giaceva in ogni caso nella camera mortuaria a soli pochi passi da lì come medico non avrebbe naturalmente incontrato difficoltà per entrare anche a quell'ora tuttavia che cercava lì dentro conosceva solo il suo corpo il viso non l'aveva mai visto né aveva solo avuto un'immagine fugace la notte scorsa dell'attimo in cui aveva lasciato la sala da ballo o per meglio dire quando n'era stato cacciato eppure il non aver fino allora considerato quella circostanza derivava dal fatto che per tutto il tempo trascorso dal momento in cui aveva letto quella notizia sul giornale si era rappresentata la suicida il cui volto gli era sconosciuto con i lineamenti di Albertin e che come si accorse sol'ora rabbrividendo aveva continuamente avuto davanti agli occhi l'immagine della moglie identificandola con colei che cercava e ancora una volta si chiese cosa mai volesse nella camera mortuaria sì se l'avesse ritrovata viva oggi domani o anche a distanza di anni in qualsiasi luogo e occasione era convinto che l'avrebbe senza dubbio riconosciuta dall'andatura dal portamento e più di tutto dalla voce ora però avrebbe rivisto soltanto il corpo un corpo morto di donna e un volto di cui non conosceva che gli occhi occhi ormai spenti sì quegli occhi li conosceva e quei capelli che nell'ultimo istante prima che lo cacciassero dalla sala si erano improvvisamente sciolti e avevano velato il corpo nudo ma sarebbe bastato a dargli la certezza della sua identità e a passo lento e incerto si diresse verso l'istituto di anatomia patologica attraverso i ben noti cortili trovò il portone aperto e non dovete suonare il campanello il pavimento di pietra rimandava l'eco dei suoi passi mentre attraversava il corridoio rischierato debolmente un odore familiare in certo modo domestico di sostanze chimiche di ogni genere che copriva le esalazioni proprie di quell'edificio avvolse Fridolin bussò alla porta del gabinetto istologico dove poteva supporre che si trovasse ancora qualche assistente al lavoro dopo un avanti un po' brusco Fridolin entrò nella stanza dal soffitto alto illuminato addirittura con sfarzo al centro della quale appena sollevato l'occhio dal microscopio come Fridolin sarebbe quasi aspettato si alzò dalla sedia il dottor Adler suo vecchio compagno di studi e assistente dell'istituto oh caro collega lo salutò il dottor Adler sempre un po' irritato ma al tempo stesso sorpreso quale onore a un'ora così insolita scusa il disturbo disse Fridolin vedo che sei in pieno lavoro appunto riprese Adler col tono tagliente che lo distingueva sin da quando era studente e aggiunse più calmo che altro si potrebbe fare a mezzanotte in queste sacre sale ma naturalmente non mi disturbi affatto in cosa posso esserti utile e poiché Fridolin non rispose subito quell'Adison che ci avete consegnato oggi giace ancora lì graziosamente intatto autopsia domattina 8 e 30 a un cenno di diniego di Fridolin ah capisco il tumore alla pleura ebbene l'esame istologico ha rilevato un irrefutabile sarcoma anche per questo non avete dunque bisogno di farvi venire i capelli grigi Fridolin scosse di nuovo il capo non si tratta di una cosa di lavoro beh tanto meglio disse Adler cominciavo già a credere che fosse stata la cattiva coscienza a portarti fin qui nottetempo si tratta comunque di cattiva coscienza o almeno di coscienza in genere rispose Fridolin oh in breve cercò di riassumere un tono distaccato e ingenuo desidererei avere informazioni di una donna morta nel pomeriggio nella seconda clinica in seguito ad avvelenamento da morfina e che ora dovrebbe trovarsi qui una certa baronessa Dubievski e continuò più in fretta ho l'impressione che questa presunta baronessa Dubievski sia una donna che ho conosciuto fugacemente anni fa e mi interesserebbe sapere se la mia supposizione è esatta suicidium chiese Adler Fridolin a noi si suicidio tradusse quasi desiderando restituire alla faccenda il suo carattere privato Adler puntò scherzosamente l'indice contro Fridolin amore infelice per vos signoria illustrissima Fridolin negò alquanto seccato il suicidio della baronessa Dubievski non ha nulla a che fare con la mia persona scusa scusa non volevo essere indiscreto possiamo accertarci subito che io sappia stasera non è giunta alcuna richiesta dalla medicina legale comunque esame necroscopico legale balenò in mente a Fridolin forse poteva ancora essere ordinato chissà se il suicidio era poi volontario si ricordò di nuovo di quei due signori che erano improvvisamente spariti dall'hotel dopo aver appreso del tentativo di suicidio la faccenda potrebbe ancora diventare un caso criminale clamoroso e chissà se lui Fridolin non sarebbe addirittura chiamato a testimoniare già ma non era poi il suo dovere presentarsi spontaneamente alla polizia seguì il dottor Adler attraverso il corridoio fino alla porta di fronte che era semiaperta la stanza spoglia e dal soffitto alto era illuminata debolmente dalle due fiamme un po' abbassate di un lampadario a gas a due bracci dei dodici o quattordici tavoli anatomici solo pochi erano occupati alcuni corpi erano nudi sugli altri erano distesi dei lenzuoli Fridolin si avvicinò al primo tavolo proprio accanto alla porta e sollevò cautamente il lenzuolo dalla testa del cadavere un abbagliante raggio di sole padina tascabile del dottor Adler Fridolin vide un volto giallo di uomo dalla barba grisa e lo ricoprì subito col lenzuolo sul tavolo accanto giaceva il corpo nudo e magro di un giovanetto il dottor Adler disse da un altro tavolo una fra i sessanta e i settanta neanche questa sarà quella che tu cerchi ma Fridolin come attratto da una forza improvvisa andò in fondo alla sala dove riluceva pallido un corpo di donna la testa era piegata da un lato lunghe ciocche di capelli sculi ricadevano fin quasi a terra istintivamente Fridolin allungò la mano per rimettere a posto la testa poi con una timidezza lui medico altrimenti estranea esitò intanto si era avvicinato il dottor Adler e accennando ai corpi alle sue spalle osservò nessuna che possa interessarti allora è quella e illuminò con la lampada attascabile la testa di una donna che Fridolin vincendo la sua timidezza aveva preso fra le mani e sollevato un po' un volto bianco con le pappebre semiaperte lo fissò la mandibola pendeva floscia il labbro superiore piccolo e alzato lasciava vedere la gengiva bluastra e una fila di denti bianchi era mai stato bello quel volto o forse lo era ancora il giorno prima Fridolin non aveva potuto dirlo era un volto completamente insignificante vuoto un volto morto poteva benissimo appartenere a una diciottenne come a una trentottenne e lei chiese il dottor Adler Fridolin istintivamente si avvicinò ancora di più alla morta quasi che acquendo lo sguardo potesse strappare una risposta a quei lineamenti irrigiditi e al tempo stesso capì anche se quello era davvero il volto di lei e quegli occhi gli stessi di ieri sera si erano fissati così caldi di vita nei suoi non l'avrebbe mai saputo non poteva saperlo forse non lo voleva affatto ripose dolcemente la testa sul piano del tavolo e fece vagare lo sguardo sul corpo della morta accompagnato dalla luce mobile della lampadina adascabile era proprio il suo corpo quel corpo meraviglioso fiorente solo ieri così tormentosamente desiderato vide un collo giallastro avvizzito vide due seni di ragazza piccoli e tuttavia già cascanti fra i quali come un segno della decomposizione in atto lo sterno si disegnava con crudele chiarezza sotto la pelle pallida vide la rotondità bruno opaca del basso ventre vide come da un'ombra scura ormai priva di segreto e di senso si aprivano insignificanti le gambe ben formate vide i ginocchi leggermente divaricati gli spigoli vivi degli stinchi e i piedi snelli con le dita piegate in dentro poi tutto ripiombò rapidamente nel buio perché il cono luminoso della lampadina tascabile tornò indietro di scatto e si fermò oscillando leggermente sul volto pallido istintivamente quasi costretto e guidato da una forza invisibile Fridolin sfiorò con le mani la fronte le guance le spalle le braccia della morta poi intrecciò le sue dita con quelle di lei come in un gioco d'amore e per quanto fossero rigide gli sembrò che esse cercassero di muoversi e di ricambiare la stretta ebbe persino l'impressione che sotto le palpebre semi chiuse uno sguardo estraneo e spento andasse in cerca del suo e come attratto magicamente si chinò su di lei in quell'attimo di sussurrare dietro di sé ma che fai Fridolin si riebbe subito sciolse le sue dita da quelle della morta prese i suoi polsi sottili e ripose accuratamente quasi con pedanteria le braccia gelide accanto al busto e gli sembrò che quella donna fosse morta solo in quel momento poi si allontanò si diresse verso la porta e attraverso il corridoio che risuonava sotto i suoi passi rientrò nel gabinetto di istologia dal quale era uscito poco prima il dottor Adler lo seguiva in silenzio e richiuse la porta Fridolin andò al lavabo permetti disse e si lavò accuratamente le mani con l'isolo e sapone frattanto il dottor Adler sembra voler riprendere subito il lavoro interrotto aveva acceso di nuovo la luce adatta tirò la vite micrometrica e guardò nel microscopio quando Fridolin si avvicinò per salutarlo il dottor Adler era di nuovo immerso nel suo lavoro vuoi dare un'occhiata al preparato chiese perché rispose Fridolin assente ma solo per tranquillizzare la tua coscienza replicò il dottor Adler come se in fondo ammettesse che la visita di Fridolin aveva avuto soltanto uno scopo medico scientifico ti orienti chiese mentre Fridolin guardava al microscopio si tratta di un metodo di colorazione abbastanza nuovo Fridolin annui senza allontanare l'occhio dallo strumento addirittura ideale osservò un'immagine dai colori sfarzosi si direbbe e chiese informazioni su diversi particolari della nuova tecnica il dottor Adler gli dia dei chiarimenti desiderati e Fridolin fu del parere che quel nuovo metodo gli sarebbe stato probabilmente molto utile per un lavoro che intendeva svolgere nel prossimo futuro chiese di poter tornare domani o dopodomani per avere ulteriori spiegazioni sempre a tua disposizione disse il dottor Adler accompagnò Fridolin sulle mattonelle di pietra fino al portone che nel frattempo era stato chiuso e lo aprì con la propria chiave ti trattieni ancora chiese Fridolin ma naturalmente rispose il dottor Adler queste sono le ore più belle per lavorare all'incirca da mezzanotte all'alba perlomeno sia abbastanza sicuri di non essere disturbati ma osservò Fridolin con un lieve sorriso e come consapevole di essere stato importuno il dottor Adler appoggiò la mano sul braccio di Fridolin per rassicurarlo che non era così poi chiese con discrezione dunque era lei Fridolin esitò un attimo poi annui in silenzio quasi senza rendersi conto che quell'affermazione poteva essere una bugia in realtà di una cosa era certo anche se la donna che aveva cercato desiderato e forse amato per un'ora viveva ancora e qualunque fosse stata la sua vita futura anche se colei che giaceva ora nella camera mortuaria era la stessa che ventiquattro ore prima aveva stretto nuda fra le braccia al suono selvaggio del pianoforte di Nachtigall o un'altra una sconosciuta un'estranea mai incontrata prima il corpo che giaceva alle sue spalle nello stanzone avvolta a lume delle fiammelle a gas oscillanti ombra fra le ombre e come quello oscuro e privo di senso e di segreto non rappresentava per lui ne poteva rappresentare ormai che il cadavere pallido della notte passata destinato irrevocabilmente alla decomposizione si affrettò a tornare a casa per le vie buie spopolate e alcuni minuti più tardi dopo essersi spogliato nello studio come ventiquattro ore prima entrò nella camera da letto cercando di fare meno rumore possibile udì il respiro tranquillo e regolare di Albertin e vide profilarsi sul cuscino morbido i contorni della sua testa fu preso da un inaspettato senso di tenerezza anzi di sicurezza e si propose di raccontarle presto forse già domani la storia della notte passata facendo però in modo che le esperienze vissute apparissero come un sogno poi quando lei si fosse resa conto di tutta la vanità delle sue avventure mi avrebbe confessato che si trattava invece di realtà realtà si chiese e in quell'attimo scorse sul cuscino accanto ad Albertin sul suo cuscino qualcosa di scuro o di delimitato come le linee in ombra di un volto umano ebbe solo un attimo di sbigottimento poi capì subito di che si trattava allungò la mano verso il cuscino e prese la mascherina che aveva portato la notte precedente e che doveva essergli caduta inavvertitamente la mattina mentre riponeva il costume forse era stata poi trovata dalla cameriera o dalla stessa Albertin così non pote neppure dubitare che Albertin dopo quel ritrovamento non nutrisse dei sospetti e immaginasse probabilmente cose più gravi di quanto era realmente accaduto tuttavia il modo in cui glielo faceva intendere l'idea di mettere accanto a sé sul cuscino una mascherina scura quasi a simboleggiare il volto del marito divenuto l'enigmatico in quel modo scherzoso e quasi spavaldo con cui sembravano manifestarsi al contempo un lieve ammonimento e l'intenzione di perdonare fecero sperare fermamente a Fridolin che ella ricordandosi forse anche del proprio sogno qualunque cosa potesse essere accaduta fosse propensa a non prenderla sul serio ma Fridolin improvvisamente allo stremo delle forze lasciò scivolare a terra la mascherina scoppiò con sua stessa sorpresa in singhiozzi disperati cadde poi accanto al letto e pianse sommessamente affondando la testa nei cuscini dopo pochi secondi sentì una mano sfiorargli morbidamente i capelli sollevò la testa e dal profondo dell'animo proruppe ti racconterò tutto Albertin fece dapprima un leggero cenno di diniego con la mano che gli prese e trattenne nelle sue Fridolin guardò la moglie con un'espressione allo stesso tempo di domanda e preghiera poi lei annui ed egli cominciò a raccontare quando Fridolin terminò il suo racconto il giorno spuntava grigio attraverso le tendine Albertin non lo aveva interrotto neppure una volta con una domanda curiosa o impaziente sentiva che egli non voleva né poteva nasconderle nulla giaceva tranquilla con le braccia intrecciate dietro la nuca e tacque ancora a lungo quando Fridolin aveva già finito da un pezzo finalmente era disteso al suo fianco egli si chinò su di lei e fissando il suo volto immobile dai grandi occhi chiari nei quali adesso sembrava riflettersi il sorgere del giorno chiese dubbioso e pieno di speranza che dobbiamo fare Albertin lei sorrise e dopo una breve esitazione rispose ringraziare il destino credo di essere usciti in columi da tutte le nostre avventure da quelle vere e da quelle sognate ne sei proprio sicura chiese Fridolin tanto sicura da presentire che la realtà di una notte e anzi neppure quella di un'intera vita umana non significano al tempo stesso anche la loro più profonda verità e nessun sogno disse egli con un leggero sospiro è interamente un sogno Albertin prese la testa del marito fra le mani e l'attirò affettuosamente a sé ma ora ci siamo svegliati disse per lungo tempo per sempre voleva aggiungere Fridolin ma prima ancora che pronunciasse quelle parole lei gli pose un dito sulle labbra e sussurrò come fra sé non si può ipotecare il futuro rimasero così in silenzio sonnecchiando anche l'una vicino all'altro senza sognare finché come ogni mattina alle sette bussarono alla porta e con gli abituali rumori della strada con un vittorioso raggio di luce penetrato attraverso lo spiraglio della tenda e un chiaro riso di bambina dalla stanza accanto cominciò il nuovo giorno no